Salve, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione e entriamo subito nel merito di questo seminario. Questo seminario riguarda il superbonus 110 che poi entreremo nel dettaglio. Adesso volevo ringraziare il sindaco a cui passo la parola. Grazie a tutti. Quindi ringrazio l'ordine, il collegio dei geometri che ha voluto questo incontro. Permettimi Presidente un ringraziamento personale al geometra Feo con il quale mi lega un'amicizia ormai da diversi anni che ha chiesto appunto questa possibilità di intervento a Valle Saccarda dove ovviamente l'abbiamo accolta immediatamente. Dico anche che se ci sono le possibilità di ulteriori incontri perché purtroppo con le misure anti-Covid abbiamo dovuto, non noi come amministrazione ma voi come collegio e anche come le società partner che partecipano a questa attività, hanno dovuto in qualche modo rinunciare a far partecipare altri tecnici e altre persone. Quindi se c'è la possibilità di ripetere questi incontri perché le occasioni sono agghiotte in questo tema è il caso appunto, è il Comune di Valle Saccarda organizzandosi anche meglio rispetto ad alcune situazioni che poi si sono venute a creare all'ultimo minuto. Ovviamente siamo ben contenti di ospitarvi e ospitare nuovi operatori e ovviamente cittadini. La faccio breve però da tecnico non posso esimermi nel lasciare alcuni interrogativi al tavolo che spero che poi con gli interventi successivi vengono ben snocciolati. C'è tanta confusione, devo dire la verità, tanta confusione la fanno anche i nostri colleghi, quindi un primo invito che faccio ai colleghi tecnici, dai geometri agli ingegneri agli architetti e anche ovviamente altri tecnici, non diffondiamo informazioni sbagliate. C'è un decreto, ci sono le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, ci sono FAQ pubblicate sul sito del Ministero, non iniziamo a dire che c'è bisogno dell'agibilità, cosa non vera, serve la conformità. Perché sono gli uffici tecnici che iniziano a essere uberati di questioni di dove dire, e le sappiamo benissimo, non sono oggi a doverle dire io, le questioni legate al post-sisma dell'80, al post-sisma del 62. Andare a rintracciare i documenti del 62 è già arduo soltanto immaginarlo dove può essere quella cartella, andare a certificare l'agibilità anche da parte dei tecnici, dei privati. Un'agibilità del 62, Tonino ci ha legato una questione personale in un comune, sappiamo benissimo che significa dare una certificazione di agibilità. Sì è vero, esiste l'autocertificazione, lo dicevamo prima con l'ingegnere dell'H. In Italia non esiste l'autocertificazione, esiste sulla carta, poi c'è sempre bisogno di qualcuno che deve andare a vedere se tu hai quello che hai dichiarato e vero. Quindi è sempre un cane che si morde la coda, siamo seri, siamo tecnici, dobbiamo dare delle informazioni giuste, dettagliate ai nostri clienti, ai nostri cittadini e concittadini. Non dobbiamo dire che è come il contributo della 219, qua soldi non vengono dati, i conto correnti, l'agenzia dell'entrata non ne vuole sapere. Qua si apre il cosiddetto castelletto fiscale, quindi è tutta fiscalità e economia circolare di alta finanza, uso questo termine per intenderci, ma non ci sono accrediti del 10% perché poi il privato immagina il 110, il 10 me lo metto in tasca, faccio qualche altro lavoretto esterno, il pergolato. No, non è così, saremo controllati, perché immagino che anche io cercherò di sistemare energeticamente e sismicamente la mia abitazione, saremo controllati fiscalmente e quindi dobbiamo collegarci per forza di cose, perché non è il mio reddito fiscale che mi permette di poter aggiustare casa e arrivando ai 90.000, ai 80.000, ai 30.000 euro di contributi che si hanno rispetto alle diverse cose e quindi mi devo affidare a persone che hanno poi la possibilità di fare lo sconto in fattore e tutto il resto, non la porto lunga. Quindi invito ai tecnici, colleghi e non di essere seri con i cittadini, con le comunità, di dare informazioni serie. A proposito di questo, se è possibile con il collegio dei geometri in questo caso aprire degli sportelli informativi presso i comuni o presso X comuni che possono fare rete tra di noi, tipo la Baronia, Valle Saccarte, è disponibile ad aprire questo ufficio Energia in modo tale che mettendo insieme software house, collegi, tecnici di aziende che hanno la possibilità, come vedo dalla Lucandina, collegati a grosse società che hanno la possibilità di prendersi i singoli getti di fiscali e quant'altro, facciamo rete perché i comuni della Baronia, e la faccio stretta come Baronia, hanno una forte esigenza, necessità di riqualificare il proprio patrimonio edilizio. Questa è una grande occasione di riqualificazione del patrimonio edilizio, andando anche a incidere su quelle che sono le vecchie abitazioni a rudere, abbandonate e quant'altro, perché non è che stiamo a guardare cosa faccio dopo, siamo abituati a ragionare con il PSR, no, mi prendo i soldi se faccio l'agriturismo e quindi facevo tutto, mi inventavo anche agricoltore moderno, multidisciplinare, purché mi prendevo il soldo per sistemare poi casa lasciata da mio nonno. Qua invece il discorso è l'inverso, ho un'abitazione che può essere restituita patrimonialmente riqualificata, energeticamente riqualificata in un tessuto urbano, sì, è di mia proprietà, è messa a posto ovviamente da un punto di vista urbanistico, catastale di proprietà, accedo a un bonus per riqualificarlo. Poi è un'abitazione, è un B&B, un agriturismo, quello che vuole essere, scusatemi, non è l'agriturismo perché sono le classi di categoria catastale, ma non stiamo ragionando in termini di funzionalità successiva, quindi è il patrimonio che deve essere riqualificato. La baronia ha vinto una sfida, sei comuni della baronia, non l'intera baronia, perché abbiamo avuto, pochi mesi fa, dall'Ufficio dei Lavori Pubblici, dall'Unità Organizzativa dei Lavori Pubblici della Regione Campania, l'Ufficio Delega del Genio Civile. Quindi questo significa che i privati hanno questa occasione di presentare le pratiche, non dico che vengono istruite se soggiorno, ma rispetto a un ufficio, quello di Ariane Espino, che ovviamente è legato al Covid, è legato ai pensionamenti, è legato alle problematiche, che assillano i nostri uffici pubblici, ovviamente si sarebbe perso più tempo. C'è sicuramente un contatto più diretto, perché non si conosce il membro della Commissione che partecipa ai lavori, si conosce il sindaco, si può ovviamente ragionare e trovare un punto di contatto importante per abbreviare quelle che sono le liste di attesa per far sì che la propria pratica venga autorizzata, depositata e quello che è. Quindi siamo aperti a un coordinamento istituzionale, pratico, operativo, economico. invito oggi la presenza di Eni da un punto di vista come società cappello, umbrello, diamogli una definizione che porrà chiudere un po' tutti i singoli attori di questa filiera fiscale. Valle Sacarta c'è bisogno in baronia di riqualificare il proprio patrimonio? Oggi per tutti gli uditori è un'ottima occasione per immagine che dopo successivamente sarà aperto un minimo di dibattito, una sorta di FAQ indiretta, in modo tale che anche i tecnici e i privati possono avere spiegazioni, se non attraverso un sistema informativo. Grazie veramente a tutti e buon lavoro a voi e sperando che questa sia un'occasione concreta di rilancio dei nostri territori. Ringrazio il sindaco per l'intervento, sicuramente questo sarà, vede diversi attori, viene super buono, i comuni, i tecnici, le imprese. Quindi è stato opportuno evidenziare anche questi aspetti, perché gli uffici tecnici saranno caricati di lavoro per risalire un pochino a quello che era l'origine della pratica, per risalire a quello che è la conformità urbanistica che si richiede in questo tipo di progetti. Quindi, e questo è un aspetto molto importante, un aspetto che va visto sin dai primi momenti, perché è alla base della possibilità di accedere o no al super bonus. Io poi presenterò mano a mano i singoli relatori. Io sono l'ingegnere Nicola Vassali, la presento in questo momento, costruirei, siamo una società che si occupa di costruzione. Siamo partner della Impetec e quindi fin dal primo momento abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul super bonus, perché secondo noi è un'opportunità, ma non solo per le imprese e per i tecnici, ma anche per i cittadini e per tutti coloro che vogliono approfittare di questa opportunità. Ora voglio esporre in maniera molto semplice quello che si può fare. Allora, che cos'è il super bonus? Tutti quanti ce lo siamo chiesti, lo sentiamo dappertutto, però bisogna chiarirlo per bene. Allora, il super bonus non è altro che una detrazione fiscale al 110%. Quindi questo, quindi parliamo comunque di detrazione fiscale. Non ci stanno contributi, ma parliamo di detrazione fiscale. Allora, l'unico vantaggio, se così possiamo chiamarlo, oltre a poter usufruire della possibilità di scalare dalle tasse al 100%, oltre a vedere poi il discorso della cessione del credito, che è un meccanismo che è molto, molto, molto importante, quello che noi riteniamo sia il motore di questo decreto, è che se io spendo 100%, fermo restando nei limiti possibili delle detrazioni che ha fissato il governo, ne posso portare in detrazione 110%. Lo posso anche vendere, questa detrazione. Questo che cosa implica? Che questo è un aspetto molto importante, che forse non tutti quanti conoscono. E la possibilità, e la detrazione fiscale non è legata a quello che uno guadagna, a quello che uno paga di tasse, ma è legata all'unità immobiliare. Questo che cosa comporta? Perché è un aspetto molto importante, che se uno ha un reddito tale da poter assorbire in 5 anni, l'ammortamento di quelli che sono gli investimenti lo può usufruire già da subito. E quindi quello che dovrebbe pagare di tasse, di fatto lo paga in lavori, quindi gli viene rimborsato. Altrimenti può cedere questo credito, che non è legato al reddito personale, ma è legato all'unità immobiliare. Quindi anche uno che guadagna 10.000 euro, paga 1.000 euro di tasse all'anno, può comunque usufruire della detrazione fiscale. Questo è importante, quindi ognuno ne può usufruire. Non ci stanno limiti da questo punto di vista. Allora, ora diciamo che cosa parla il super bonus? Sono interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica, quindi bisogna concentrarsi su questi due tipi di interventi. Se si focalizza l'attenzione su questi due tipi di interventi, si può usufruire di questo 110, quindi efficientamento energetico. Quindi dove possiamo intervenire con l'efficientamento energetico? Possiamo intervenire nelle parti comuni dell'edificio, immaginiamo un condominio, immaginiamo delle strutture, una casa unifamiliare, quindi sull'involucro esterno dell'edificio. Possiamo, quindi può interessare anche la singola unità immobiliare, non bisogna che questo sia per forza un condominio. Anche chi ha una casa singola può usufruire dell'efficientamento energetico o della sicurezza antisismica. Parliamo di edifici quindi unifamiliari o purifamiliari e anche edifici che si trovano all'interno di un contesto purifamiliare, però l'importante è che sia funzionalmente indipendente e abbia un eccesso separato. Chi può usufruirne? I condomini, quindi se si trova in un condominio, il condominio può usufruire perché può fare l'efficientamento energetico su tutto l'involucro edilizio. Le cooperative di abitazione, le persone fisiche, quindi anche chi ha la casa unifamiliare, abita in una villetta, abita in una casa isolata, può usufruire della detrazione fiscale. Le organizzazioni non lucrative, quindi immaginiamo una cooperativa sociale, associazioni e società sportive e dilettantistiche che hanno in qualche modo un sofrutto di proprietà, hanno un'immobile, hanno un'unità abitativa. E poi abbiamo gli istituti autonomi e in case popolari che possono intervenire. Allora, abbiamo detto che ci stanno due possibilità di intervenire. Uno è l'isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali, inclinate, con una superficie maggiore risperdente del 25%. Questo che cosa si traduce? Io ho una mia casetta, se intervengo sull'involucro esterno, cioè l'involucro che alla fine racchiude il riscaldamento, perché poi i singoli appartamenti dovranno essere riscaldati, altrimenti non si potrà usufruire, quindi se c'è un caminetto, se c'è una caldaia, se c'è un'impianta di riscaldamento, altrimenti non è possibile usufruirne, a meno che non si vada verso la sicurezza antisismica. E in più, se ci sta la possibilità di sostituzione degli impianti di incrementizzazione invernali e nei condomini devono essere poi trattati come impianti condominali, anche in questo caso qua si può usufruire del 110%. Quindi questi sono i due aspetti. Ora, per quanto riguarda l'isolamento termico delle superfici opache, di che cosa stiamo parlando? Possiamo parlare del cappotto termico. Non so se avete presente gli interventi, soprattutto sulle strutture esistenti, siccome è difficile, può intervenire anche in altri modi, forse l'intervento che sia più semplice è quello di intervenire sull'involucro, ma può venire anche all'interno delle singole immobiliari, può venire attraverso il cappotto termico, quindi si mette uno strato di isolante e così via. Si possono fare vari pacchetti. Questo però, sempre che si riesca a dimostrare, qui il tecnico dovrà fare un progetto termico adeguato, che si passi di due classi energetiche. Cioè verrà fatta un'ape, un'attestazione di prestazione energetica, ante l'intervento, cioè qualcosa che fotografa il immobile, prima di intervenire, poi verrà fatta un'ape successiva. Cioè si fa un progetto di isolamento, si fa un progetto termico, oppure un progetto di climatizzazione invernale, che è tale da creare le condizioni affinché si passi di due classi energetiche superiori. Quindi questi sono alla base della possibilità di poter detrarre la detrazione fiscale. Ora che cosa succede? Che questi due tipi di interventi vengono chiamati interventi trainanti. Cioè se io faccio questo tipo di intervento, ho la possibilità di abbinare anche altri tipi di intervento, che vengono detti trainanti. Poi entriamo anche nei numeri, quanto sono i costi, più o meno quello che attualmente è possibile usufruire, fino a che numeri ha dato. C'è una tabella in cui lo Stato ci ha dato dei limiti ad ogni parametro di spesa. Quindi a questo possiamo aggiungere i serramenti, possiamo aggiungere i tipole caldaie a condensazione, solari termico, i francisoli e gli imbianti fotovoltaici. Nel momento in cui facciamo gli imbianti fotovoltaici possiamo anche inserire gli accumuli per gli imbianti fotovoltaici e infine le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Quindi questi sono gli interventi trainati, quindi ci stanno i due interventi principali. Se uno riesce a fare quel tipo di intervento, basta di due fasi energetiche, ci può abbinare anche quest'altro tipo di intervento qua. Inoltre, poi, questo parliamo di efficientamento energetico, però come ho detto all'inizio, c'è anche la possibilità di lavorare sul sisma bonus, quindi abbiamo detto sulla possibilità di intervenire sulla sicurezza sismica. Quindi la sicurezza sismica che cosa succede anche in questo caso qua? Se nel caso nostro, che siamo in una zona sismica alta, che cosa comporta questo? Che noi possiamo intervenire sull'immobile, con la sostituzione di alcuni elementi costruttivi oppure anche sull'abbattimento di costruzione dell'immobile, se riteniamo che lo stesso non valga la pena tra parentesi intervenire con singoli interventi oppure con dei consolidamenti mirati. L'importante è che alla fine il tecnico che assevera tutto questo tipo di interventi faccia una relazione in cui dimostri che ha aumentato la sicurezza e il grado di sicurezza sismica dell'edificio. Quindi questi sono gli interventi che si possono detrarre al 110%, faccio 100% e ne detraggo 110% nei limiti dei parametri di spesa che più avanti in qualche modo vi elencherò. Ora vi do qualche numero, così ognuno può anche avere qualche numero di riferimento. Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico, e quindi parliamo di cappotti termici, ogni singola unità immobiliare può portare in dettaglio un massimo di 50.000 euro, compreso IVA, compreso le spese tecniche e compreso tutto. Quindi se io ho una singola unità, faccio un progetto termico, dimostro che subito di due classi, faccio un computometrico, se il computometrico non supera i 50.000 euro, quindi ci sarà la parte relativa all'IVA e le spese tecniche, il tutto non deve superare i 50.000 euro, io ho la possibilità di portare tutto in detrazione, quindi l'intero intervento. In questo caso qua viene detto che in qualche modo la persona che usufruisce di questo ha la possibilità quindi di portare tutto in detrazione e di fatto non spende niente, perché rientra all'interno di questi parametri. È normale che se poi uno vuole fare un intervento particolare, noi dai nostri compiti, dai nostri progetti che già li abbiamo fatti diversi, finora diciamo più o meno abbiamo visto che ci rientriamo nei limiti di spesa che il governo ha fissato, quindi non c'è necessità, tra parentesi, di aggiungere ulteriori somme da parte del cliente. Quindi se invece ci troviamo in un condominio, fino a 8 unità immobiliari ci sono la possibilità di usufruire di 40.000 euro a 8 unità immobiliari, superiore a 8 unità scende a 30. Quindi faccio un esempio, un condominio di 4 unità immobiliari può usufruire di 4x4 160.000 euro di spesa massima, di possibilità di detrarle o di cedere il credito, ma poi entreremo nel dettaglio perché questo è un aspetto molto importante che verrà affrontato più avanti. Poi abbiamo quindi la possibilità anche di intervenire sugli impianti di climatizzazione, in questo caso abbiamo 20.000 euro per singolo intervento, per singola unità immobiliare, se invece l'edificio è unifamiliare abbiamo 30.000 euro, poi abbiamo gli infissi con un massimo di 60.000 euro a unità immobiliare, però non ci facciamo, bisogna guardare vari parametri, perché poi è vero che hanno fissato un limite di 60.000 euro, ma è vero che hanno fissato anche un limite di costo al metro quadro degli infissi, che non può superare i 650 euro, quindi arrivare a 60.000 euro è molto molto difficile. Poi abbiamo la possibilità di installare impianti fotovoltaici, quindi in questo caso abbiamo una spesa massima di 48.000 euro, ossia una spesa comunque non superiore a 2.400 euro per kilowatt installato, a questo possiamo abbinare le batterie, gli accumuli, per immagazzinare l'energia, perché altrimenti l'energia che viene prodotta in surplus dovrà essere ceduta gratuitamente nella rita elettrica. E infine 3.000 euro, una tandem per singolo intero mobiliare per l'installazione delle colonnine, perché si vede che nel futuro si va verso le auto elettriche, ibride, eccetera, eccetera, quindi sarà un punto molto importante. Poi invece abbiamo la possibilità di intervenire sul sisma bonus. Allora, il sisma bonus, come abbiamo detto, bisogna dimostrare di aumentare la sicurezza sismica dell'edificio, fino ad arrivare anche all'abbattimento della ricostruzione. Ci stanno la possibilità, uno a un'unità collabente, così come viene definita, in questo caso diceva che adesso devo andare a intervenire a destra, a sinistra, una spesa eccessiva, quindi posso optare nella possibilità di abbatterlo e ricostruirlo, usufruendo di una spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Quindi questa è la spesa massima, è una bella spesa, è un aiuto abbastanza importante. È normale che ogni singolo intervento sarà opportunamente progettato, quindi ci sarà un progetto a corredo di quello che sono gli interventi e un computo metrico, che dovrà comunque attenersi al... Attualmente sono state date le indicazioni, attenersi a preziare i regionali delle opere pubbliche della regione Campania, qui in Campania però, in Puglia, così per quanto riguarda la Puglia. Quindi quelli sono i prezzi di riferimento. Poi laddove non ci stanno dei prezzi particolari, perché ci stanno delle elaborazioni particolari, si potrà redigere apposita analisi dei prezzi di ogni singolo intervento. Questo è il quadro generale. Poi ci saranno vari casi che andranno affrontati singolarmente. Ora, che cosa abbiamo detto dall'inizio? Che la persona, chiunque voglia usufruire di questa detrazione fiscale, che è attribuita all'unità immobiliare, quindi non è legata al reddito personale di ogni singola persona, che cosa fa? Dice, vabbè, ma io allora, a giusto caso, ho diritto a una detrazione di 50.000 euro per fare il cappotto, ma qualcuno i soldi li deve pure cacciare, perché altrimenti l'impresa che viene dice, ma io come faccio? Allora, si possono dare tre soluzioni. La prima, il beneficiario, cioè colui che fa l'intervento, paga direttamente il fornitore e quindi conserva le detrazioni fiscali del 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi cinque anni. Faccio un esempio, ho spento 100.000 euro, che rientra nel discorso dei 45, più 60, più tutti quei numeri che ci siamo detti prima, quindi ho 100.000 euro dal computo medico. Quindi ne posso portare in detrazione 110, ma io comunque devo avere poi una fiscalità, una capacità di reddito tale da spendere almeno 22.000 euro. Quindi se io pago 22.000 euro me lo faccio io all'intervento, se mai, senza che chiedo se ho la disponibilità anche di anticipare, pago all'impresa e nei successivi cinque anni lo Stato mi manda l'assegno e io mi rimborsa automaticamente i soldi che ho speso. Quindi però bisogna avere la disponibilità e la capacità finanziaria per poter affrontare il progetto, altrimenti non si può fare. Il secondo punto, il beneficiario paga direttamente al fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene sassumata in credito di imposta da cedere a terzi. Quindi può succedere anche un'altra cosa. La persona dice, guarda, chiama il tecnico, chiama l'impresa, si fa fare tutte le carte che servono per usufruire del 110%, quindi rispettando i parametri, le due classi energetiche o per quanto riguarda il sisma bonus, l'aumento delle classi energetiche, ok, io adesso ho acquisito la possibilità di usufruire di una detrazione di 100.000 euro. Che cosa faccio? Io soldi non ce l'ho, ma posso anche io stesso cedere a terzi. E quindi ci saranno società, banche che lo acquistano pure. Però anche là subentrano alcuni dubbi che poi saranno affrontati successivamente. Il terzo, quello che in qualche modo ci sentiamo di dire che forse è quello più facile anche per il cliente, perché incorre a meno problemi, a meno rogne, non sa come dimenarsi, dove andare, chi firma la cosa, la detrazione fiscale, chi la fa, chi non la fa, è quello di dire guarda l'impresa, tu vieni, mi fai i lavori e ti cedo a te questo 110% di detrazione fiscale e tu ne fai quello che vuoi. Allora noi in questo caso, come CostruiEco, in qualche modo siamo partner di Impretec, società business di Eni, che già c'è un accordo a monte, che loro comprano questo credito e quindi il cliente in qualche modo è esente da tutti quelli che sono i problemi delle banche, delle garanzie fiduciarie, di anticipare soldi per pagare l'impresa, perché comunque chi fa i lavori in qualche modo dovrà essere pagato, a meno che chi fa i lavori abbia la capacità fiscale di caricarsi di questi importi e dice vabbè io devo me le carico e apposta di pagare le tasse mi detrago questi soldi, però sono poche le imprese che riescono in qualche modo ad avere la forza economica per affrontare questo tipo di problemi. Ora è normale che in tutto quanto questo discorso, nel momento in cui parlavamo all'inizio c'è un discorso che va affrontato a monte, è quello della conformità urbanistica, uno si parlava di agibilità, si parla di conformità urbanistica, che cos'è questa conformità urbanistica, perché poi se serve il progetto degli impianti, non serve la conformità degli impianti, non è così, la conformità urbanistica è capire a momento della costruzione del fabbricato se è stato presentato tutto quello che andava presentato, perché qua le leggi sono cambiate, fare la casa 100 anni fa si faceva in un certo modo, ci stanno case che hanno 100 anni, non è che è quello che possiamo chiedere la conformità degli impianti, perché quello ci abita, ci vive, non è che è una casa che non è tra parentesi agibile, è agibile a tutti gli effetti, così negli anni c'è stato quando c'era la concessione edilizia, prima non c'era, allora va inquadrata un po' quella che è la situazione dell'immobile nell'epoca della realizzazione, quali sono i problemi che più o meno, almeno noi stiamo cercando e vedremo che ci stanno alcuni problemi da superare, la pratica si avvia, c'è la concessione edilizia o si è scordato qualcuno di presentare qualche documento finale o la fine lavori o il collaudo, quindi questi sono i documenti di andare a ricercare, non documenti che oggi vengono richiesti, se uno fa la casa ad oggi, addirittura tu ad oggi se costruisci una casa, alla fine non c'è nemmeno bisogno di chiedere l'agibilità, il tecnico con una scia che allega una serie di documenti e automaticamente si sarà autocertifica l'agibilità, quindi questo io lo dico ai tecnici, questo è quello da andare in qualche modo a verificare, la conformità o benissimo, anche perché ci sarà un'asseverazione del tecnico che dovrà poi oggettivamente valutare tutti questi tipi di problemi, perché se c'è un problema poi ne paga il tecnico che ha firmato quel tipo di asseverazione, infatti è richiesta al tecnico e lo dico a tutte le persone che vogliono soffrire, di stipulare una polizza a garanzia della capacità di progettazione, faccio un esempio, sono ingegnere, ne faccio 3 milioni di euro di interventi, condominio 1, condominio 2, condominio 3, tanto c'è a me che a me ne importa, poi succede qualcosa, quando sarà tra 3 anni vengono a me, ma io non ce ho 3 milioni di euro da restituire a qualcuno, se qualcuno viene un domani chi li paga questi soldi? Quindi è obbligatorio la polizza che vada anche a garanzia delle persone che in qualche modo affidano l'incarco, è obbligatorio, poi saranno richiesti tutti questi documenti, così come è obbligatorio anche la certificazione del credito. Adesso dal 15 ottobre sembrerebbe che l'agenzia delle entrate aprirà il portale dove caricare tutte le pratiche e ognuno potrà caricare le pratiche perché gli interventi agevolabili già sono partiti, dal primo luglio, quindi se io adesso sto facendo un intervento che credo che rientra in questo tipo di aspetto, io posso in qualche modo caricare i documenti e li posso portare e comunque posso avere questo credito fiscale che come detto a monte ho quelle 3 opzioni per capire cosa fanno questa detrazione fiscale. Io adesso non mi voglio dilungare perché poi alla fine avremo modo di approfondire anche alcune esperienze. Io ho fatto giusto un quadro generale, ora passo la parola al presidente del collegio di geometri e geometri laureati della provincia di Avellino che è sempre vicino ai propri iscritti e quindi di supporto anche in questa grande e forte opportunità che si sta creando soprattutto anche per i tecnici oltre per le persone che supriscono l'intervento ma se non ci stanno dei tecnici preparati che riusciranno a fare queste pratiche e imprese che vorranno realizzare questi lavori, nessuno aggiusta niente perché il cerchio si deve chiudere, c'è il tecnico, solo il progetto non serve a niente, serve il progetto, serve l'impresa che lo realizza e serve il cerchio che deve chiudersi ed è qua pure un altro aspetto che secondo noi è vincente il pacchetto che in qualche modo proponiamo che è a supporto delle imprese che vogliono in qualche modo soffrire e che non sanno come uscire, quindi noi offriamo anche questo supporto alle imprese che stanno sul territorio se vogliono collaborare e così anche ai tecnici in modo tale da portare avanti un intervento che poi sia effettivamente realizzato perché forse l'anello debole in tutto questo saranno proprio le imprese, non si riescono a trovare imprese che riusciranno in qualche modo a supportare questo tipo di operazione perché se vi è in porto è un'operazione abbastanza importante. Passo la parola al Presidente. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie per la presenza perché nonostante siamo in un momento di particolare difficoltà da questo benedetto virus che non ci lascia, però iniziamo a vederci, iniziamo a stabilire e ristabilire quei rapporti che purtroppo si sono interrotti in un certo momento della nostra vita e noi ci teniamo molto a questo, ringrazio l'ingegnere Passaglio per l'esposizione. Non vedo il Sindaco, io al Sindaco dovevo innanzitutto ringraziarlo per la disponibilità che ci ha dato di essere qui stasera e di ospitarci in questa bellissima struttura, ma al Sindaco volevo dire e a tutti noi ricordare che molti professano il principio della sussidiarietà e noi stasera lo stiamo attuando come lo stiamo attuando, già da tempo abbiamo fatto un incontro il 28 a Salsa Irpina, qui ringrazio H.Soft e l'ingegnere Fulcolo che poi vedrete ci farà un'esposizione molto attenente, molto pregnante su tutto il sistema super bonus che in qualche modo abbiamo già iniziato a vedere. Perché dico questo? Perché effettivamente molti professano questo principio che non si attua mai e questo è il momento opportuno per farlo, dobbiamo dare informazione non solo ai nostri iscritti, che è giusto che lo dobbiamo fare per principio, ma noi lo stiamo dando anche ai cittadini, informare tutti i cittadini di quelle che sono le opportunità che vengono messe in campo e quindi questo è un principio importante, ma questo principio quindi devo dire è un principio che noi stiamo mettendo in atto anche perché il Sindaco non c'è, ma gli ero accennato prima, noi stiamo chiudendo come collegi dei campani, stiamo chiudendo e lo dico ai miei iscritti ma anche ai cittadini che lo devono sapere, stiamo chiudendo una convenzione con Anci Campania, l'associazione dei comuni campani e in particolar modo dei piccoli comuni, perché tutti i comuni sono in difficoltà, lo stiamo vedendo oggi perché richiediamo copie, come abbiamo detto prima di concessioni, sono in difficoltà perché gli uffici sono ormai svuotati, vuoi da quota 100, vuoi da pensionamenti, ormai sono svuotati e allora noi con questa convenzione cosa vogliamo andare a fare? A dire con un fondo notativo che la nostra cassa mette a disposizione, la nostra cassa di previdenza mette a disposizione, quindi offrendo un mutuo, ingegnere, restituibile poi negli anni quando il comune avrà la possibilità di farlo, e quindi far lavorare i nostri giovani all'interno delle pubbliche amministrazioni per risolvere questi problemi e noi stiamo facendo questo, questo dovrebbero fare anche la politica probabilmente, se si sveglia un attimo e cerca di darci una mano, noi ce la stiamo mettendo tutta, noi abbiamo cercato di attuare quel principio di semplificazione e riguardo qui il sindaco da Richiamata, Valle Saccalda è capofila di una serie di comuni che hanno avuto a sé il trasferimento delle competenze del genio civile per quanto riguarda le autorizzazioni simili e anche qui noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, lo devo dire senza perché è giusto che sia così, abbiamo fatto un lavoro straordinario, un tavolo tecnico che è durato troppi anni, troppi anni in quella regione campana e la moltificazione più grande era quella di vedere altri ordini, rappresentanti altri ordini che non accettavano la possibilità di semplificare, caro ingegnero, lì era la moltificazione più grande perché noi avevamo la possibilità di farlo, lo abbiamo fatto oggi perché si passa per la stragrande maggioranza delle opere, si ritorna al deposito, non più all'autorizzazione che era una cosa che non si poteva più sostenere, bene io dico allora ma se abbiamo costruito come abbiamo costruito il ponte di Genova in meno di due anni, o mi commissariata, ma noi siamo commissari di ogni singola opera e lo vogliamo essere perché sappiamoci, prendiamo le responsabilità, abbiamo le assicurazioni che dobbiamo stipulare, è certo che le stipuleremo e anche qui ci sono ancora una serie di situazioni e qui ho l'ultima lettera di ieri che è arrivata al collegio da parte di Marci che è una delle società che fa, che fa assicurazioni, che ci dice appunto che stanno ancora lavorando per vedere come fare, noi vogliamo essere singoli, commissari di ogni singola opera anche per il sisma bonus e per l'eco bonus, perché le responsabilità ce ne prendiamo comunque e comunque se è successo un problema, sono sempre cavoli nostri, allora io ho detto questo anche al mio Consiglio Nazionale, di far sì che sia questa la proposta, la sfida che noi dobbiamo lanciare, non ho bisogno che qualcuno mi autorizza a fare cosa, se io so se lì è vincolato, se c'è una conformità e se non c'è, scusate io alzo un po' la voce ma purtroppo mi prendono questi argomenti perché quando assisto a tavoli e sono stato seduto in quei tavoli, ho avuto la fortuna e il privilegio di esserci e ringrazio i miei iscritti per questo, quando io dicevo scusate ma qual è il problema? Arrivava qualcuno con un'agenda, ma io perché devo asseverare quello se poi… ma non fai il libero professionista, fai un'altra cosa! e quindi queste sono le cose che noi vorremmo portare avanti sempre e comunque e qui rispetto a questo noi abbiamo il dovere di certificare la conformità e abbiamo detto anche qui al governo che purtroppo parte in quarta per poter dire delle cose e poi dobbiamo correre sempre a decreto attuativi, a modifiche, a regolamenti… ma di cosa stiamo parlando? voglio sfidare chiunque a trovare in un'abitazione qualcosa che è tale e quale al progetto presentato se me lo trovate io sono disposto a fare questa sfida, allora siccome ci sta 10 centimetri in più ho sbagliato a fare il calcolo, ho messo la porta un po' più qua, un po' più là, il tramezzo, quello e quell'altro… scusate… queste cose potevano essere oggetto… adesso l'hanno svilato in un decreto semplificazione… che è ancora in discussione… c'era qualcuno di questi nuovi fenomeni di movimenti che dicono… no e questo è un condono… fermateli, arrestateli… di cosa e contro di che? Noi vogliamo mettere a posto quelle piccole modifiche che ci sono e sono reali… 10 centimetri di altezza, 10 centimetri di larghezza… queste sono le difformità… certamente nelle zone vingolari non andiamo a dire o a fare la sanatore di quel fabbricato che è abusivo… noi abbiamo cercato questo… ci hanno detto che devono fare un cam… una modifica del regolamento del 380 per poter fare questo… ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E poi vogliamo far attuare tutto questo in un anno… in un anno… scadenza 31-12-2021… io vorrei parlare con chi ha scritto quella norma… come si fa… un ministro delle infrastrutture che è anche un tecnico… ma io sinceramente non lo chiedo… poi ci sono tutte… adesso stiamo facendo questi convegni per dare informazioni ai cittadini… e troviamo ancora mille interrogativi su queste cose… adesso per fortuna si è svegliato un viceministro mi pare… che abbia detto che è favorevole a poter fare una proposta di allungamento a 3 anni… beh… insomma… iniziano a ragionare… si sono svegliati… tutto a un tratto… allora… qui però devo richiamare anche i nostri consigli nazionali… tutti… non sono il mio… la rete delle professioni tecniche… che scrive lettere… io dico no… andate dal presidente del consiglio dei ministri a dire questo… come abbiamo fatto noi andando dal presidente della giunta regionale… a dire non se ne può più di tutto questo… lo abbiamo fatto cinque festi di presidenti del collegio dei ciumi… a dire abbiamo detto quattro righe su un foglio a quattro… come questo… ma con righe molto… molto più sintetiche di questo… e lui ci ha detto… ah ecco… e allora facciamo… probabilmente la difficoltà è a volte che ai politici non arriva… perché sono le esigenze del leggente… questa è la difficoltà… ci interfacciamo… la rete delle questioni tecniche… lettere contro lettere… per quella… comunicazione… basta… dovete andare alla fonte dei problemi… e dobbiamo… pensate no… questa occasione che io ritengo straordinaria… io ritengo che sia straordinaria… perché riqualificare un patrimonio… non solo dal punto di vista dell'eco bonus… per carità… io sono più che contento… è più facile… anche per noi… potete autocertificare e fare un intervento di questo… ma io penso… e qui anche le amministrazioni… che hanno dei centri storici a volte molto messi male… perché ci sono delle situazioni… parlo del mio comune che conosco meglio ovviamente… ma credo che abbastanza gli altri centri storici non siano messi bene da questo punto di vista… e allora perché non incentivare alla demolizione e ricostruzione… e questo… perché a volte… anche… abbiamo fatto degli interventi… lo disse anche a Sanz… abbiamo fatto degli interventi anche nelle scuole… di riqualificazione… cappotto… un bel cappotto… ci mettiamo… ma… bello… ma bene… tutto ok… e poi dentro… se quelle strutture non reggono più… siamo in una zona sismica… lo siamo sempre stati… che cosa succede… a volte… se si è usato un termine… che è bruttissimo… per carità… molto… ma molto… brutto… ma a volte… con questa riqualificazione energetica… in qualche maniera… mettendo questi bei cappotti al di sotto delle strutture… abbiamo abbellito le nostre scuole… non vorrei che abbiamo creato delle grandi bare… non vorrei… facciamo tutti gli sconciuti di questo mondo… ma se arriva un sisma in una certa entità… non credo che il cappotto possa reggere… rispetto a una struttura che non si fa neanche la verifica da là… prima di fare quell'intervento… e quindi… insomma… io sono più propenso… laddove è possibile fare la riqualificazione… capisco che nei condomini è difficilissimo… se non impossibile… perché poi trovare… svuotare un condominio… trovarci una locazione… per i mesi che devono stare fuori… per i lavori… eccetera… diventa difficile… se non impossibile… però questo sarebbe riqualificare un patrimonio edilizio ormai… datato… questa è la verità… allora… queste sono occasioni importanti… quindi… semplificazione… noi vorremmo che… potremmo fare tutto quanto noi… certo… abbiamo semplificato un po' con questo che provvedimento della regione Campania… quindi qui… credo che… in mezzo al pubblico… ci domande di vista amministrativo se c'è tutto… abbiate la bontà di lasciar perdere… quello che sta scritto dentro… perché è una rispettabilità che abbiamo noi… quindi… per cui… abbiate la correttezza di fare questo… lo dico da… da Presidente se volete… ok… ma questa è la vera missione che voi dovete fare… semplificare la vita ai cittadini… non ce la complichiamo noi stessi… e quindi… noi siamo qui per questo… stiamo cercando di stare vicino alle amministrazioni… faremo un convegno come questo… venerdì 11 a Grotta Miarda… perché noi questa… ci siamo prefessi come consiglio detettivo di poter fare questi giri… li dovevamo fare prima del coronavirus… era il mio programma quando mi sono candidato a Presidente… purtroppo c'è stato un lavoro immenso da fare in collegio… abbiamo perso qualche anno… ovviamente… avevamo iniziato a pensare… poi è arrivato il virus… ci ha bloccato… però adesso… nonostante le difficoltà… nonostante tutto questo… noi ci siamo… e faremo sentire sempre la nostra voce… grazie… credo che ci sia un intervento dell'ingegner Passa Tordi… dico bene… giusto… ruba solo… ruba solo… solo un attimo… giusto per fare giusto una piccola nota… per quanto riguarda i sisma bonus e eco bonus sono cumulabili… quindi eventualmente qualcuno abbia la possibilità… c'è la possibilità di abbattere… ricostruire… si può comunque soffrire anche dell'eco bonus… quindi… e si sommano quelli che erano i parametri… diciamo… quelli che erano le somme… di cui c'è la possibilità di portare in interazione al 110%… io adesso… ci ho perso la parola a Carlo Passa Tordi dell'ImpreTech che ci ha… ci ha raggiunto da Roma… ci è venuto appositamente per questo seminario… per… per… per raccontarci un po' quello che sono le opportunità che dà Eni… e soprattutto perché poi non è un argomento nuovo per loro… perché loro questo discorso della cessione del credito… già lo facevano precedentemente… con il 65%… perché per il 65% superiore a 200 mila euro… già c'era la possibilità di fare anche lo sconto in fattura… e adesso ti passo la parola a Carlo… Allora intanto un ringraziamento ai padroni di casa… direi al sindaco che ci ospita gentilmente nella sua sede… chiaramente dovunque abbiamo dei partner come costruire eco… ci sentiamo a casa… voglio dire… cioè quindi non… non usiamo molti convenevoli… perché lì dove abbiamo partner di fiducia… abbiamo… vuol dire già iniziato un rapporto anche con il territorio… quindi ci si sta già muovendo su questo territorio… l'opportunità… l'opportunità di cessione del credito… mi ricollego solo un attimo a quanto diceva il Presidente… allora concordo pienamente… chiaramente sia con l'atteggiamento forte… io sono peraltro anche membro e consigliere dell'Ordine degli Ingegneri… quindi… purtroppo… purtroppo non sempre la politica segue quelle che sono anche le indicazioni pervenute sia dalla rete delle professioni tecniche piuttosto che da tutti quanti i consigli dei vari ordini degli architetti… degli ingegneri… chiaramente nelle loro vesti istituzionali e nazionali… diciamo… è una grandissima opportunità… questo è anche una cosa che tutti quanti dovete valutare… allora spesso… soprattutto dalle nostre parti… si tende ad associare… voglio dire… questo incentivo di legge alla 219 dell'80… io insomma ho vissuto molto molto marginalmente… ma mi permetto di dire che questo è un intervento di gran lunga più forte… e di gran lunga più interessante… non ci sono… voglio dire… delle gradutorie che non scorreranno mai… voglio dire… io sono un lucano… voglio dire… quindi… cioè… ci stanno persone che aspettano da quarant'anni… penso che questi soldi non li vedranno mai… non c'è… quindi da aspettare… non c'è… voglio dire… in parte oggi nemmeno una collospese se non per la quota oneri di ristrutturazione… perché tenete presente che in questa operazione forse il Presidente Conte è stato un po'… voglio dire… ha fatto un po' di pubblicità ingannevole… cioè… non tutto è gratis… cioè tenete presente che voglio dire… sono ricomprese chiaramente… nell'intervento di legge… nel beneficio di legge… tutti quegli interventi che sono riconducibili o a un efficientamento energetico o a un attivamento sismico… alcuni altri interventi rientrano nella ristrutturazione ordinaria… mi viene l'esempio banale della ringhiera… ripetare una ringhiera… non rientra da nessuna parte… quindi va come onere… oggi scomputabile al 50% e portarsi… può anche cedere il credito che prima non era possibile… vi dico questo perché… perché… oggi l'atteggiamento delle persone dice… io non devo mettere una lira… ok… ma questo non è che viene dall'imperizia o dall'ignoranza del cittadino… viene forse dal… insomma… da una pubblicità ingannevole… ecco… diciamo commercialmente si chiamerebbe una pubblicità ingannevole che è stata fatta… voglio dire… forse… dando un messaggio diverso… perché è chiaro che un Presidente del Consiglio che dice… si faranno gli interventi e il cittadino non deve mettere una lira… se non altro è forviante… ecco… quindi partiamo da questo… da questo… giusto due parole per ricollegarmi un po' a quanto chi mi ha preceduto in questa riunione ha tirato fuori come elementi… ora non voglio andare fuori te… ma io mi atterrò sostanzialmente al nostro… al nostro ruolo… noi siamo un contratto generale di Eni… business partner di Eni… Eni… perché noi la… insomma veniamo fuori… qui siamo in forza con Impretec nella realtà… perché c'è il social con il quale abbiamo combattuto… parecchie insomma battaglie… abbiamo fatto svariate decine e decine di migliaia di chilometri per affrontare problematiche già con la vecchia legge… con il vecchio equestismo a bonus che ci ha lasciato insomma pre-covid… e che vi ricordo che non è morto… cioè quindi tenete presente che qualora voi doveste fare servizi ai soggetti IELES la legge è in piedi… cioè vale il vecchio dispositivo di legge… che peraltro mi sentirei di dire che rispetto al 110 è anche un velo più semplice… voglio dire non ci sono asseverazioni… si fa apprezzare… non c'è congruità… non c'è niente… quindi ecco vi invito anche qualora imprenditori per i loro beni strumentali avessero necessità di fare interventi… valutateli… cioè non è morto… voglio dire non è che il soggetto IVA oggi o il soggetto IELES non sia finanziabile da questo punto di vista… il nostro percorso… quindi siamo con Eni perché Eni da una… diciamo ci ha rassicurato su un processo di affiancamento… cioè Eni non vuole fare l'impresa… Eni dice guarda io curo le questioni finanziarie… nel contempo do la garanzia al cittadino voglio dire di sgravarlo dal rischio della cessione del credito… mi spiego meglio… la cessione del credito può avvenire o mantenendo il rischio in capo al cedente che è la famosa cessione pro solvendo… oppure il rischio può essere sgravato dal cedente… dal cessionario che nella fattispecie può essere il condominio o il proprietario dell'abitazione… in quel caso si chiama… è una formula che a livello di legge… diciamo di linguaggio giuridico… si chiama la cessione pro soluto… Eni è l'unico player italiano che sgrava… voglio dire… la responsabilità da parte del vostro cliente… nel caso in cui… chiaramente… in assenza di dichiarazioni vendaci… di lavori maleseguiti… cioè… quindi di cose che prevedono responsabilità o professionali… o chiaramente di impresa… Eni dice ok… allora vuol dire che ho sbagliato io nel seguirti durante la pratica… perché tenete presente che Eni non è che ci guarda soltanto… ha una società che fa la dirigenza documentale che è l'Arleigh Dickinson… ha una sua società che è un esco controllato al 100% da Eni che si chiama SEA… non Aeroporti Milanesi ma è la SEA dell'Aquila… che invece fa il commissioning e il controllo sui cantieri… quindi loro… voglio dire… si mettono d'accordo… voglio dire… o con tecnici loro o con tecnici di loro fiducia… vengono a vedere il cantiere di Valle Saccarda e verificano che tutto si stia svolgendo regolarmente… conforme al progetto… voglio dire… che ci hanno approvato… quindi tenete presente… quindi una… anche una sorta di ridondanza del controllo… che non fa mai male… cioè… ecco… Eni non vuole controllare per danneggiarci… cioè… vuole controllare per evitare che noi passiamo guai… quindi chiaramente… cioè qualsiasi cosa… loro ci affiancano… anche a dirimere problematiche… magari mai affrontate prima… questioni che loro affrontano tramite l'ufficio regale con l'agenzia delle entrate… lì dove ci sono… questioni atipiche… oppure… voglio dire… non affrontate dal normatore… quindi per noi… sicuramente un valido supporto… e certamente… parliamo comunque anche del primo player privato italiano… quindi non di una società che ha affanno… cioè… voglio dire… che comunque ha difficoltà a gestire il credito d'imposta… si diceva prima… e lo accennava anche l'ingegnere… il credito lo possono prendere anche le imprese o le società… assolutamente sì… però sapete oggi qual è la difficoltà… non è il fatturato di un anno… è che oggi nessuna impresa sa cosa farà a tra 3, 4, 5 anni… quindi oggi chi è che può gestire il credito d'imposta… solamente chi ha un tax planning così chiaro da sapere che da qua a 5 anni… a 10 anni non gli cambierà quasi niente… quindi chi gestisce flusso di cassa importante e costante… cioè diversamente voi avreste visto molti più partner le nuove imprese… invece Salini non lo fa e non gliene frega assolutamente niente di farlo… voglio dire… eppure potrebbe farlo… c'è un portafogli lavori di 44 miliardi di euro… sicuramente poteva partecipare… perché partecipano le banche… partecipa l'ENI… partecipa magari ENEL… piuttosto che altri grossi player italiani… perché loro hanno la certezza della loro fiscalità… tenete presente che l'anno in cui il credito non si può scomputare si perde… quindi è questo il motivo per il quale sostanzialmente in questa partita l'elemento fondamentale è stata la gestione del credito… perché questa era una partita nata… cioè la legge nel 2013 fino al 2017 non si è fatta assolutamente niente… perché era legato alla capacità fiscale del soggetto richiedente… inutile che vi permette… già in questa assise quasi nessuno si potrebbe fare un lavoro… quindi nemmeno a casa propria… quindi la gestione del credito è sicuramente stata un'innovazione pazzesca secondo me… cioè veramente di enorme portata… ora ci sono sicuramente una serie di cose che vanno ancora messe a fuoco… io vi dico… noi… oltre ad avere poi peraltro… sicuramente questo rapporto di partnership con Eni che… nella quale sostanzialmente il rapporto come funziona… cioè loro si impegnano… allora Eni entra ad acquistare il credito d'imposta… quindi fa la parte finanza… le due società operative di sotto… che sono praticamente l'Arley Dickinson e la SEA… che sono comunque sempre sotto il cappello di Eni… così come lo siamo noi… cioè noi abbiamo fatto una due diligence per essere accreditati in Eni… abbiamo dovuto dimostrare… voglio dire requisiti di onorabilità personali… cioè di ogni cosa… di reputazione… perché chiaramente Eni dice… cioè tu mi diventi partner… io non posso far mettere il mio luogo… apparentato a te se tu hai dei problemi… di qualsiasi genere sorta voglio dire… cioè dalla multa… il contenzioso con l'agenzia dell'entrata… di qualsiasi tipo questo sia… in più grazie a Matteo… devo dire la verità… in questo è solamente grazie a lui… stiamo implementando un importantissimo rapporto con una società cinese… che è una delle major company mondiali… tenete presente che la holding ha un fatturato… se non ricordo male di 57 miliardi di dollari annui… un patrimonio di 86 miliardi di dollari… che è la CNBM… noi probabilmente chiuderemo insomma con la holding o con una delle controllate… che comunque sono… voglio dire… società leader a livello mondiale… per un accordo Italia commerciale… questo ci consentirà chiaramente di avere… forse di… di essere… non voglio dire il… il main player italiano di Eni… ma sicuramente uno dei maggiori protagonisti sulla scena del mercato nazionale… questo non… diciamo… è venuto… fuori… vi assicuro che è una cosa di estrema difficoltà… insomma… forse… forse più… più un battito in questo caso si è… eh… prodigato e si è… speso e consumato direi anche più che… più che speso… vuol dire… per tentare… stiamo tentando tutti insieme di portare a compimento questo che sarà un progetto bellissimo e sicuramente di rilevanza nazionale… quindi… noi abbiamo un accordo Italia senza limite di importo… loro saranno partner… voglio dire… ci seguiranno su tutte le… diciamo le operazioni Italia senza limite di importo… così come al momento non abbiamo limite di importo con Eni… tenete presente Eni penso abbia una fiscalità se non ricordo male di circa 2 miliardi di euro l'anno di imposte avversate… quindi… diciamo… c'è capienza… io immagino… sì sì… che non arrivi… sì… che non arrivi… istantaneamente questa… diciamo questo momento… quindi… ecco… questo è un po' un modo di presentarci anche a voi… voglio dire… chiaramente i nostri partner amici… cioè… ci conoscono… diciamo… li coinvolgiamo su quello che stiamo portando avanti a livello nazionale… sicuramente… insomma… è una cosa che ci carica molto… ma ci carica anche di responsabilità… chiaramente… cioè… non esiste una… una cosa… voglio dire… bella e importante che non abbia… l'altra… l'altra faccia della medaglia… chiaramente sono impegni… chiaramente sono responsabilità… chiaramente sono… insomma… rapporti che vanno… che vanno gestiti e vanno gestiti al meglio possibile… oggi… diciamo tramite costruire eco… siamo qui presenti sul territorio… stiamo tentando di lavorare con tanti di voi… anche già con… con tanti tecnici… che si sono… si sono operati… noi stiamo facendo supporto… ovvero… stasera c'è anche l'H software… insomma… che è il leader… vuol dire… vuol dire… del settore… come software house… anche… ovviamente… per i prodotti… ho visto il termus… quant'altro… l'offerta… per il Sisma Bon… per il Superbonus 110… quindi… è un'opportunità… io invito tutti… solamente… se vi posso dare un consiglio… cioè… lavorate bene… lavorate… con… cervello… questa non è un'operazione da fare a frode… questa è un'operazione da fare in maniera intelligente… non… sentitevi… non… dovete sentire il peso di gestire la questione finanziaria… cioè… voi siete professionisti… dovete progettare… cioè… la progettazione… con la questione della gestione del credito… non c'entra assolutamente niente… quindi… quando molte volte mi chiedono… no… ma come progettiamo… ma qual è il quadro economico da mettere… il computometrico… siete voi… i professionisti… siete voi… i progettisti… siete voi… che firmate… nessuno vi dirà mai niente… non ve lo dirà Eni… non ve lo diremo noi… cioè… vuol dire… siete voi… che state definendo il progetto… voi siete… diciamo… gli artefici… e anche i responsabili… di questo processo… e come diceva poc'anzi il presidente… dovete avere la consapevolezza che l'essere liberi professionisti comporta dei rischi… comporta delle responsabilità… dopodiché non lo vuoi fare… devi fare l'impiegato… non c'è un'altra possibilità… cioè… c'è uno spartiacque… se tu vuoi dormire tranquillo la sera… probabilmente è meglio che te vai a impiegare… perché se tu temi di firmare un progetto… un elaborato… una separazione… non puoi fare il professionista… cioè non c'è un'altra possibilità… ma non per il geometrio… per l'ingegnere… uguale per tutti… per l'ingegnere… perché è identico… quindi… cioè… fatelo con coscienza… anche quando sarete chiamati a ruoli diversi… di direzione ai lavori… di sicurezza… anche lì… lavorate con coscienza… e fate lavorare le imprese con coscienza… c'è la possibilità di lavorare… non andando scannati… come spesso… ahimai capita… sui lavori pubblici… a meno 40… a meno 50… a meno 60… vabbè… i professionisti si vedono di tutto… quindi io direi proprio non classificato… sarei pure almeno 80… quindi… diciamo… se non altro… l'OICE… come… a livello nazionale… come costruttori… diciamo… siamo attestati a meno 40… ecco… non dovete lavorare con quest'ansia… perché avrete una remunerazione… ecco… congrua… all'impegno che avete speso… l'unica cosa… lavorate… lavorate bene… lavorate con serenità… noi saremo a fianco… voglio dire… questo direi… è qui in zona… voglio dire… qualsiasi… supporto di cui voi dovete aver bisogno… voglio dire… ma immagino tecnico… d'impresa… c'è… qualsiasi cosa… voglio dire… ci saremo anche noi… però… ecco… sentitevi liberi… visto che siete una platea… principalmente di professionisti… di progettare in libertà… cioè… fate conto che… vi sta venendo un privato e vi sta commissionando un progetto… lasciate stare… super bonus… tutte le altre cose… queste sono cose che verranno dopo… cioè… voi dovete progettare con coscienza… e progettare secondo le norme tecniche… non c'è una questione fiscale in questo… quindi… ecco… sgombrate la mente dalla interferenza di questi due concetti… che sono due concetti… vi assicuro… completamente separati… poi… ci sono gli adempimenti burocratici… come giustamente c'è il presidente… insomma… asseverazione… o quant'altro… ma ecco… nulla che sia fuori… dalla portata del vostro lavoro… o del vostro ingegno… quindi… la cosa che vi posso dire… ecco… siate seri… perché come giustamente si diceva anche all'inizio… date le informazioni corrette… se non avete le informazioni corrette… premuratevi di averne prima di darle… perché oggi c'è una confusione totale nel mercato… totale… sono arrivate le banche… le banche hanno portato solamente confusione… perché la gente ha pensato che andare in banca gli davano i soldi… chiaramente non è così… cioè… inutile che vi dica che la banca fa… fa un'operazione finanziaria… io non so se a qualcuno di voi è mai capitato che la banca abbia chiamato… guarda ti voglio dare una cosa di soldi… se passi domani mattina ti do una cosa di soldi… ecco… sfatiamo questo mito… perché non c'è… le banche oggi… avete visto la pubblicità sicuramente… delle major company bancarie… intesa Unicredit… hanno fatto un prodotto finanziario… cioè loro dicono… guarda caro cittadino… tu maturi il credito fiscale… quando hai finito tutto… mi chiami e io lo acquisto… cioè signori non è arrivare alla fine della pratica… cioè voi… prima di arrivare ad aver concretizzato la gestione del credito… c'è un mondo… ci sono un mondo di dichiarazioni… vi dico a scopo simpatico di esperienze… vuol dire… fatta da Eni… nel 2000… penso… fine 2016… prima di 2017… hanno presentato 500 pratiche tipo… all'agenzia delle entrate… tenete presente… valutate da loro… dal loro ufficio tecnico… ne sono state rigettate 498… gliene avrebbero approvate solamente due… cioè tenete presente… questo non è il bonus mobili… che tu tieni il bonifico parlante… cioè non è questo… cioè la procedura è complessa… per quello vi dico… cioè in questo caso noi ci presentiamo… ecco forse con il primo player italiano… su questo settore… che sicuramente Eni… voglio dire… che io non smetto mai di ringraziare… perché all'inizio li ho un po' criticati… sono stati un po' lenti… però devo dire la verità… oggi sicuramente non hanno competitor… sul mercato… perché hanno creato un'organizzazione che consente a tutti quanti di operare in tranquillità… cioè… un esempio… il verbale di assemblea condominiale… lo predispone già Eni… l'amministratore di condominia… non deve scrivere niente… c'è un pdf… deve compilare i campi… in modo tale che… voglio dire… tutta la documentazione che è stata stabilita e che è di gradimento dall'agenzia e dall'entrata… sia già pronta… cioè… quindi nessuno di questi deve ammazzare a dire oddio mo che deve scrivere e che non deve scrivere… non c'è problema… perché tutto l'iter sarà praticamente standardizzato e procedurizzato… quindi non vi preoccupate da questo punto di vista… perché verrete affiancati e verrete portati per mano nell'iter documentale che non riguarda chiaramente la vostra fase… né di progettazione né di direzione lavori né di quant'altro… se non per la predisposizione delle carte che vanno poi date a Eni… questo è il grosso modo… penso… voglio dire… un po' l'introduzione… quello che può essere un cappello di presentazione nostra… sicuramente avremo modo di vederci più operativamente… voglio dire… non appena ci saranno anche degli elementi in più… vi devo dire la verità… in questo momento c'è molta confusione sul 110… nella realtà anche presso tutte le società… cioè in questo momento nessuno si è mosso su questa operazione… voi avrete visto che l'agenzia delle entrate al momento è ancora in una veste di prima stesura… cioè quella che noi hanno dato a luglio è una prima stesura… tanto è vero che se avete letto bene il testo loro rimandano sempre a quando usciranno i decreti del Mise… ora i decreti del Mise sono usciti… speriamo che l'agenzia delle entrate in un prossimo testo… voglio dire conclusivo… vada anche a dirimere tutti gli elementi di criticità e di conflitto che oggi ci sono… escono interpelli in conflitto con quello che ha detto lo circolare e viceversa… quindi il 110 è una cosa nuova… per molti versi sarà diverso dal vecchio 75-85… quindi c'è una biforcazione… stanno seguendo due strade differenti… perché il legislatore ha il timore che sul 110 si facciano imbrogli… non ha questo timore sulle operazioni dove i cittadini devono mettere la loro parte… che sono le operazioni con equiti che si facevano prima del 75-85… quindi questo è il motivo per il quale sul 110 stanno uscendo asseverazioni, congruità, il prezzo, il mica prezzo, le dichiarazioni… cioè sono tutte cose volte a tentare di limitare il più possibile gli imbrogli… non lo so se ci riusciranno… però diciamo… io penso che questo sia… voglio dire… l'intervento del normatore… io vi ringrazio… non vi voglio dediare oltre… passerei poi… vabbè… passo lì che media la situazione… e per qualsiasi cosa… ripeto… tanto siamo presenti in zona con persone di fiducia… quindi null'altro… per qualsiasi altra cosa noi saremo sempre a fianco al partner locale… grazie… 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 grazie Carlo… io adesso passo la parola a… diciamo… a un'azienda leader… ma leader con la L maiuscola… perché non c'è tecnico che non abbia un software H nel proprio studio… ed è… diciamo… noi siamo anche orgogliosi… perché non solo è un'azienda leader… ma è un'azienda del nostro territorio… noi la sentiamo come… anche come motivo di orgoglio… per… per noi tecnici che c'è un'azienda così importante nelle nostre zone… è un'azienda che ci supporta in tutto questi… nei progetti… nelle operazioni progettuali… perché… da anni… supporta ai tecnici… quello software li aggiorna… e anche in questo discorso del super bonus… come sempre H sta sempre all'avanguardia… io vi ringrazio… passo la parola… una piccola precisazione… allora… per dire solo che appunto volevo ricordare… che venerdì facciamo questo… cerchiamo di ripetere in qualche maniera questo tipo di incontro a Grotta Minarda… nella sede di… sopra il Consiglio… dove sta il Consiglio Comunale… nella sede del Menino… mi sembra che si chiama… la sala… che contiene un centinaio di persone… allora la preghiera qual è? Lo dico ai miei iscritti… la cortesi di inviare la mail di partecipazione… perché purtroppo siamo in questo regime di coronavirus e abbiamo queste difficoltà logistiche… e io vorrei che tutti quanti quelli che si prenoperano siano poi ospitati in maniera perfetta e migliore… ovviamente… devo ringraziare H perché si sta sopportando in questo giro… in questo tour… devo dire la verità… ha detto prima l'ingegnere… ovviamente non aggiungo nulla rispetto a tutta… noi addirittura avevamo previsto di fare un incontro sulla questione antigenio… proprio ad H… proprio in sede… purtroppo poi è arrivato il virus e ci ha bloccato in tutto questo… ma quindi noi abbiamo… come dire… mi posso vantare di avere il… il fondatore di H tra i miei iscritti… quindi… posso dire di giocare effettivamente in casa… ingegnere prego… buonasera a tutti… mi presento rapidamente… io sono Nicola Furcolo di H Software… H già ne abbiamo parlato… è un'azienda che produce software per l'edilizia… ma credo qui la maggior parte di voi siano tecnici… quindi non c'è bisogno di parlare di queste questioni… entriamo rapidamente nel vivo della questione… Superbonus 110… capisco che tra di voi la maggior parte… la maggior parte di voi siano già dei tecnici… quindi cercherò di entrare nelle questioni un po' più tecniche… di provare a dirimere qualche dubbio… visto… come già è stato detto… visti i numerosi… le numerose questioni che si pongono… viste le tante incertezze che ci sono ancora… visti anche quelli che sono i provvedimenti normativi attuati… vedremo un attimino qualche particolarità… quindi… rapidamente mi dispiace non avere la possibilità di proiettarvi le slide… posso provare… posso provare a girare il computer… casomai così vediamo insieme… di solito io mi appoggio sempre a delle slide… in modo da poter focalizzare la questione che vado a trattare… ma così va benissimo… di cosa parliamo… rapidamente… bonus… Superbonus 110… cosa l'abbiamo detto… lo abbiamo visto insieme ai miei colleghi ingegneri che hanno parlato prima di me… quindi si tratta di un'agevolazione fiscale… attenzione… non si tratta di un… di un… non si tratta di un finanziamento… non si tratta di un… si tratta di un… si tratta di un'agevolazione fiscale… quindi un credito fiscale che ci viene riconosciuto a fronte del sostenimento di una spesa… questo sia ben chiaro… si tratta di intervenire su quelle che sono le nostre abitazioni… il presidente prima l'ha detto chiaramente… questioni antisismiche… questioni energetiche… ne abbiamo parlato… attenzione… l'importanza dell'efficientamento antisismico… spesso non ha senso andare ad accanirci su… magari un rudere… su qualcosa che strutturalmente non sia già… che non ci dia delle garanzie di sicurezza… immaginiamo al rudere… andiamo a pensare di fare l'isolamento termico sul rudere oppure sull'immobile che non dia garanzie in termini di… di sicurezza antisismica… a livello sismico… ricordiamoci che ci troviamo una zona sismica 2… credo qui sia 2… addirittura 1 potrebbe essere 1… quindi stiamo parlando della prima zona… quindi la zona a maggior rischio sismico… quindi ricordiamoci gli interventi antisismici… non voglio fare il tifo per gli interventi antisismici… assolutamente lungi da me… ma ricordiamoci che è prevista questa possibilità… quindi si tratta di andare a riqualificare le nostre abitazioni… siano esse condomini… dopo vedremo case singole… abitazioni singole… le andiamo a riqualificare dal punto di vista energetico… dal punto di vista antisismico… bene… quindi è una detrazione… per la prima volta nella storia della detrazione accadono due cose importanti… l'hanno già detto… la prima è che la detrazione è addirittura maggiore della spesa… quindi per la prima volta abbiamo un valore superiore al 100%… in questo caso parliamo del 110%… ovviamente riconosciuto in 5 anni… non all'anno 0 di sostenimento della spesa… ma è possibile usufruire di questo beneficio negli anni successivi… nei successivi 5 anni… e quindi abbiamo detto… la prima innovazione… la prima novità è che si tratta di una detrazione maggiore del 100%… la seconda novità è che per la prima volta vengono tirate in ballo le banche… tirando in ballo le banche… l'abbiamo visto prima… l'abbiamo capito… si crea in qualche modo una moneta fiscale… perché se io non ho la possibilità di detrarre questa spesa in 5 anni… non ho la capienza IRPEF per usufruire di questo sconto nei confronti dello Stato… posso cedere questa… ovviamente già potevo farlo prima… già potevo cedere prima alle imprese… abbiamo visto c'erano una serie di questioni… però la vera garanzia di… il vero aspetto che rende una moneta fiscale tutto questo meccanismo sono proprio le banche che intervengono… quindi le banche potranno acquistare la vostra detrazione… ovvero o meglio sarete voi a cederla alle banche… definendo degli accordi… poi vedremo… rapidamente ne parleremo anche dopo la fine… ne abbiamo già… abbiamo già sentito prima di cosa si tratta… quindi… possibilità… esistono tre possibilità sostanzialmente… una… usufruire in maniera diretta del credito IRPEF… quindi ho la capacità… l'ha spiegato bene il collega prima di me… ho la capacità IRPEF… ho i soldi… quindi ho la disponibilità economica… finanziaria… di accedere immediatamente all'intervento di riconificazione energetica o sismica… e intervengo sul mio edificio… benissimo… a questo punto spendo 100 mila… apro la possibilità di portare in detrazione… quindi scomputerò dall'IRPEF dovuto allo Stato… 22 mila euro all'anno… nei successivi cinque anni al sostenimento della spesa… quindi 2020 spendo 100 mila… dal 2021… 2021… 2… 3… 4… 5… 2025… potrò recuperare… dal mio… 22 mila euro all'anno… quindi alla fine dei conti avrò recuperato 110 mila euro… questo è il meccanismo… seconda opzione… infatti si parla proprio di opzione… il contribuente… in particolar modo quello incapiente… colui che non abbia né la disponibilità economica… o non abbia la disponibilità di… una delle due… non ha disponibilità finanziaria… può pensare di cedere il suo credito… quindi opzione… cessione del credito… e si aprono due strade… la prima è quella di… optare per un contributo… in favore dell'impresa… o meglio… ricevere un contributo dall'impresa… pari a uno sconto in fattura… quindi cedo il credito all'impresa… l'impresa mi fa uno sconto in fattura… fino a un massimo del 100%… questo significa che la fattura non può essere negativa… attenzione… quindi cederò 110% all'impresa… l'impresa mi sconterà in fattura… fino al 100%… poi dipende dai ricordi… mi e l'impresa… il valore dello sconto… andrà da 0 a 100%… non può andare oltre… quindi cederò il 110%… poi sarà l'impresa che a sua volta potrà cederlo ad altre imprese… potrà cederlo a chiunque… anche alle banche… troverà altri accordi… potrà utilizzarlo direttamente come credito di imposta… attenzione… quindi se per me è un credito IRPEF… nel momento in cui… do per spondato che sappiamo cosa significa credito IRPEF… credito di imposta… nel momento in cui lo cedo qualcuno diventa un credito di imposta… ok… questa è una cosa importantissima… benissimo… detto questo… abbiamo visto… questa è la seconda opzione… quindi impresa… terza opzione… la cedo alle banche… banche… per dire istituti di credito… intermediari… finanziari… quindi la cedo alle banche… ok… poi ciascuna banca offrirà le proprie condizioni… se vogliamo… alla fine ci rimane un po' di tempo… potremmo provare ad analizzarne qualcuna così a memoria… e vedremo… rapidamente… siete tutti tecnici… abbiamo parlato della responsabilità dei tecnici… il presidente… i colleghi… hanno specificato che ciascuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità… deve asseverare… ci sono tutta una serie di adempimenti in capo al tecnico… ed è giusto che sia così… perché… perché proprio… per il fatto che è stato detto… il legislatore questa volta si deve… premunire… o meglio… per la prima volta abbiamo una detrazione così importante… è chiaro che ci vogliono delle garanzie più forti rispetto a prima… ci vogliono delle garanzie più forti… tant'è che è richiesto in caso di cessione… non solo le diverse asseverazioni… ma è richiesto il visto di conformità… visto di conformità che dovrà essere apposto da un commercialista… da un esperto… da un… da un… da un… da un… dal consulente del lavoro… quindi da chi può… da chi può apporre questo timbro… questo visto di conformità… che si farà da garante nei confronti dello Stato… che il vostro credito… il credito dei vostri committenti… sia… che tutta la pratica sia ok… e che ci siano i presupposti… per poter cedere… per poter usufruire… ecco… di questa detrazione… di questa detrazione… e bene… rapidamente… stiamo parlando di una questione tecnica… vi dico velocemente… avete ricevuto una cartellina… all'interno c'è un flyer… lì c'è un… un indirizzo… www.h.it… slash slides super bonus… troverete… queste slide… potete scaricarle direttamente da questa pagina… dove potrete vedere… adesso andrò un po' veloce… per questioni di tempo… quindi potrete trovare… tutti questi appunti… che ho creato… insomma… che dovrebbero chiarire alcuni aspetti… alcuni aspetti importanti… quindi… rapidamente… qui ci sono le norme… che dovete conoscere… perfettamente… quindi a partire dal DPR 3880… fino ad arrivare al DPR 917 dell'86… quindi il testo unico per l'edilizia… attenzione all'articolo 16 bis… leggiamocelo bene… controlliamocelo… teniamo presente… quando parliamo di certificazione energetica… quindi di analisi energetica… asseverazione e tutto il resto… ricordiamoci… i decreti del 2015… quindi stiamo parlando di linee guida… requisiti minimi e relazioni tecniche… fondamentali… per tutta una serie di discorsi che… non so se faremo in tempo a vedere… ricordiamoci… la questione dell'asseverazione… in caso di interventi antisismici… quindi… le diverse classi di rischio sismico… e vedete bene che è uscito un nuovo decreto… questo lo sanno in pochi… perché è uscito forse… immediatamente dopo i decreti del Mise… stiamo parlando del 10 agosto più o meno… che inserisce le nuove asseverazioni per la classe di rischio sismico… è passato un po' in sordina questo decreto… sappiate che c'è… e introduce anche delle semplificazioni… e tra l'altro riporta anche la questione delle asseverazioni e il discorso dei SAL… in caso mai dopo lo vedremo rapidamente… quindi ricordatevi che c'è… oltre al DM 58 del 2017… quindi linee guida… attestato di rischio sismico… c'è il nuovo decreto del 10 agosto… ok… detto questo rapidamente… in cosa consiste… l'abbiamo visto… i beneficiari… ne abbiamo parlato prima… condomini in primis… condomini… quindi chiariamo subito una questione… che è molto discussa… tra l'altro noi abbiamo fatto una pagina con delle FAQ… ci arrivano migliaia… non c'è migliaia… di domande al giorno… non riusciamo a risponderle tutte… proviamo a dare una risposta a quelle più significative… quelle più importanti… ci arrivano anche tante mail… e abbiamo capito più o meno quali sono i dubbi maggiori dei tecnici… condominio… immaginiamo di avere un condominio… il beneficiare il condominio… quindi all'interno del condominio possono esserci unità immobiliari abitative… possono esserci unità immobiliari destinate ad altre questioni… immagino degli uffici… immagino dei negozi… benissimo… quando il beneficiare il condominio… quindi stiamo parlando di spese su parti comuni… i famosi interventi di cui al comma 1b e comma 1c dell'articolo 119… che prima sono stati elencati… abbiamo anche visto quali erano i limiti… quando si tratta di parti comuni… non ci sono grossi problemi… anche per le persone… o meglio… per le persone fisiche… anche se esercitano attività di impresa o artioprofessioni… l'importante… ha chiarito le entrate… è che almeno il 50% della superficie… almeno il 50% della superficie complessiva… sia destinata ad abitazioni… quindi che vuol dire… immaginiamo… il condominio… con 10 appartamenti… due uffici… un negozio… vado a fare un calcolo preciso… delle superfici… e mi risulterà che il 70% della superficie complessiva dell'edificio… destinata ad abitazione… il 30% ad uffici… il 20% a negozi… benissimo… tutti… il condominio… che ha diritto alla detrazione… il che significa che il negozio al piano terra… potrà usufruire della detrazione… al pari del titolare… del proprietario dell'abitazione all'ultimo piano… questo sia ben chiaro… quali sono i problemi su questa cosa… è che se la superficie si riduce… la superficie abitativa si riduce al di sotto del 50%… su questo le entrate sono state chiari… vengono tagliate fuori… queste persone… quindi… pardon… i soggetti iressi… oppure coloro che esercitano la loro impresa all'interno di un ufficio… quindi soltanto le persone fisiche che risiedono nell'unità abitativa… ok… ok… questo è stato chiarito… poi… un altro chiarimento importante… quindi diciamo… sono agevolate solo le unità abitative… stop… persone fisiche… sì… perché ho detto persone fisiche… potrei anche essere un professionista… quindi non avere IRPEF… perché magari in regime forfettario… potrei essere proprietario di un immobile in affitto… quindi destinato ad abitazione… benissimo… posso usufruire del super bonus per spese comuni… per quel particolare edificio… purché non è un bene strumentale alla mia attività… quindi non deve essere il mio studio dove esercito la mia professione… ok… quindi… chiarito questo… per le spese comuni non ci sono grossi problemi… tutti… perché il beneficiario è il condominio… non è la singola persona… quindi essendo beneficiario il condominio… andremo ad applicare tutti i limiti… andremo a calcolare… andremo a fare tutti i calcoli… e alla fine la spesa… la spesa… così come la detrazione… quindi così come il beneficio… sarà ripartito tra gli aventi diritto… quindi tra i partecipanti al condominio… secondo tabella millesimale… qualora esista la tabella millesimale… o secondo i criteri definiti dal codice civile… articolo 1123… vado a memoria… codice 1123… mi sembra… successivo… benissimo… questa è la prima questione da chiarire… persone fisiche… quando parliamo di persone fisiche… quindi… stiamo parlando di unità immobiliari… quindi di interventi su parti private… quindi non parti comuni… ma quindi parti del singolo… lì abbiamo il vincolo di massimo due unità immobiliari… e questo è abbastanza chiaro… non abbiamo vincoli sui condomini… quindi potrei avere un appartamento in dieci condomini… sulle parti comune… potrò soffrire dell'adilazione… anche su dieci condomini… sulle parti private… quindi se ho un'abitazione singola… quindi edificio… la norma lo individua come edificio… unifamiliare… e il DM mise… ne dà la definizione precisa… edificio unifamiliare… edificio… che ha una serie di requisiti… ha il servizio… destinato ad ospitare… un unico nucleo familiare… avendo eccesso indipendente… c'è proprio una definizione del DM 6 agosto… ok… ah… chiariamo una cosa importante… ora vi dico le cose… visto il tempo… non posso seguire una scaletta… ma vi dico le questioni più interessanti… i decreti non sono stati pubblicati in gazzetta… il che significa… al momento sono bloccati alla Corte dei Conti… i decreti del Mise… ricostruiamo un attimo… rapidamente l'escursus normativo… siamo al 17 maggio… quindi post lockdown… periodo di fase 2… di ripresa… il governo… il governo emana un DL 34 2020… per rilanciare l'economia italiana… si individua… il settore delle costruzioni come uno dei settori trainanti… per l'intera economia… si decide di investire fortemente su quel settore… si trova là… il meccanismo delle aderrazioni… che è un meccanismo virtuoso… perché lo Stato non deve anticipare… ma deve solo… o meglio… avrà la possibilità… di non anticipare soldi… ma di far recuperare… come abbiamo visto poc'anzi… di far recuperare l'aderrazione ai beneficiari… sotto forma di… scorporo dall'IRPEFOLI o IRES… ok… quindi questa cosa funziona… parliamo del 17 maggio… benissimo… entro 60 giorni… il decreto deve essere convertito… alla Camera fanno tante modifiche… in realtà migliorano tante cose… perché la legge 77… che esce tra l'altro al sessantesimo giorno… col rischio di invalidare il DL… esce proprio il sessantesimo giorno… quindi parliamo del 17 luglio… 60 giorni… inserisce una serie di novità… tra cui la più importante… è quella di dare la possibilità di ragionare sugli stati di avanzamento lavori… sal… quindi vengono introdotti dalla legge 2 sal… poi vengono reinterpretati anche dalle entrate… ma non entro nel merito… chi di voi fa lavori pubblici… almeno noi… io abituato… mi sono anche confrontato con gli esperti di Primos… chiedendo loro cosa significhi 2 sal… parecchi di noi hanno la stessa interpretazione… ma non voglio entrare in polemiche… anzi… l'interpretazione dell'entrata secondo me è migliore… è più a vantaggio del contribuente… ma non vi dico… non voglio entrare in questioni di questo tipo… il governo… perdono… la camera ha inserito delle modifiche… prevedendo diversi sal… almeno due sal… di cui il primo almeno 30%… significa che c'è la possibilità di cedere il credito… quindi di maturare il credito… già al 30%… quindi non devo arrivare necessariamente a fine lavori… ma posso anticipare il beneficio già al 30% della realizzazione dell'opera… e questa è una cosa abbastanza importante… perché già al 30% del raggiungimento… quindi sal al 30%… posso o… attestare il sostenimento della spesa… posso cederlo all'impresa… sotto forma di contributo con sconto in fattura… posso cederlo alle banche… quindi di fatto una buona agevolazione… dopodiché cosa è successo… lo stesso… la stessa legge… quindi decreto rilancio… legge rilancio… legge 77 del 2020… demandano al MISE l'emanazione di un decreto… poi sono diventati due… e comunque alle entrate… di disciplinare la questione di cessione del credito… quindi il MISE avrebbe dovuto specificare a livello tecnico quali erano le procedure da seguire… e le entrate a livello procedurale e amministrativo quali erano le procedure da seguire per la cessione del credito… cosa accade… i primi di agosto… quindi parliamo del 6 di agosto… se non ricordo… no… non ricordo bene… è uscito prima il decreto MISE… il famoso decreto requisiti eco bonus… importantissimo… perché… quel decreto non è definito… cioè non è stato emanato a seguito del… semplicemente della richiesta della legge 77… ma è un decreto che arriva dopo ben 7 anni… perché se prendete questa… questa… questa norma è tra quelle che dovete ricordare… benissimo… il DL 63 del 2013… che è quello che disciplina tutte le le agevolazioni fiscali… in materia di detrazione… per riqualificazione energetica… e poi c'è anche all'articolo 16… non ricordo male… tutta la parte sismica… quindi è quello che disciplina tutta la parte di detrazioni… era stesso quel decreto che demandava al MISE di concerto con altri ministeri… l'emanazione di un documento tecnico… quindi di un decreto tecnico… che disciplinasse tutti i requisiti che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiavano di detrazione… e ad oggi non era uscito… tant'è che ci trovavamo… questi… tanti non lo sapevano… ad oggi… fino ad oggi ci siamo trovati in un periodo transitorio dove andavamo a utilizzare il DM del 2007… febbraio 2007… una norma vecchia… perché dal 2013 ad oggi non era uscito questo famosissimo decreto… il decreto è uscito… e se vedete l'allegato A di questo decreto… la tabella A… perdono… si tabella presente all'allegato A… vedrete che non ci sono solo i lavori al 110%… quel decreto disciplina in maniera compiuta tutti gli interventi edilizi… detrazione al 50… detrazione al 65… detrazione al 75… detrazione al 85… detrazione al 90… bonus facciate… detrazione al 110… spero di non averle dimenticate… credo di… ah c'è 70-80… ecco… 75-80-85… e vengono disciplinate tutte… quindi di fatto quel decreto non solo definisce i requisiti che devono avere tutti gli interventi… quindi vi invito ad andare a leggere quel decreto… tutti i requisiti che deve avere ciascun intervento… quindi ne abbiamo parlato prima… alcuni dovranno prevedere il salto di due classi energetiche… quindi andrò a fare l'APE pre… APE ante… e APE post… dovrò attestare il salto di due classi energetiche… attenzione a come si legge la questione di salto di due classi energetiche… qualcuno mi dice… grandissima sciocchezza… che lì c'è scritto… qualora non è possibile… perché la classe è più alta… quello significa che ne dovete saltare due… se non è possibile… è solo un caso in cui non è possibile… vi trovate in A3… andate in A4… stop… quindi non ci inventiamo che sia possibile una sola classe… non è possibile… una classe solo se vado da A3 ad A4… le classi energetiche vanno dalla G alla A4… quindi A1, A2, A3, A4… l'unica volta… l'unico passaggio di classe… l'unico salto che mi è consentito di uno è quando salto dalla A3 alla A4… non è quella questione… qualora non sia possibile… il salto di una sola… attenzione… leggete bene quella questione… perché arrivano un sacco di domande su quella cosa… dicevamo… decreti ministeriali… quindi… vanno a disciplinare tutti gli interventi… quindi non solo quelli super bonus… ma tutti… decreti ministeriali… che è decreto ministeriale… il ministro Patonelli lo chiama… decreto requisiti ecobonus… da non confondere… altra cosa che accade sempre… sistematicamente… col decreto requisiti minimi del 2013… sono i decreti definitivi della legge 90… decreti requisiti minimi del 2015… quello che ho detto prima insieme alle linee guida APE… quelli definiscono la prestazione energetica dell'edificio… quindi stiamo parlando… per capirci… legge 10… vado a vedere… l'involucro… quali sono i requisiti che deve soddisfare… in quel decreto… vedo come si fa una certificazione energetica… vedo come si fa… quali sono i requisiti che deve soddisfare l'edificio… attenzione… questo si chiama decreto requisiti ecobonus… qualcuno a scanso di equivolo lo chiama decreto prezzi… forse meglio… così togliamo la confusione con i requisiti tecnici… requisiti minimi… quindi… dicevo… è stato emanato quel decreto… dopodiché… dopo quello stesso giorno è stato emanato un altro decreto… in realtà forse il giorno prima… il 5… il decreto asseverazioni… decreto asseverazioni… ne avete sentito parlare diverse volte… decreto asseverazioni che disciplina le diverse asseverazioni in capo al progettista… al tecnico… dopo vedremo… ne parleremo se c'è tempo… dopo due giorni… quindi parliamo del 8 agosto… viene fuori la circolare delle entrate… che disciplina una serie di cose… quindi circolare 24… o 12 forse… 8… no 8 agosto… 8… ok… 8 agosto… di fatto le entrate riprendono anche alcune definizioni dello stesso Mise… riporto una virgoletta… e… c'è un problema adesso… c'è un problema… il problema è che… essendo un regolamento… questo decreto… c'è l'obbligo di pubblicazione in gazzetta… in realtà il giorno 9 agosto… questi decreti sono stati pubblicati… sul sito del Mise… quindi di fatto poteva sembrare… che fossero entrate in vigore… dalla pubblicazione… ma non è così… non è così… perché c'è l'obbligo di pubblicazione in gazzetta… quindi… al momento già… ve lo dico… c'è un problema… sono bloccati alla Corte dei Conti… perché ci sarebbero delle cose che non funzionano… c'è anche qualche piccolo errorino… qualche piccolo richiamo… qualche numeretto che… scritto male… vabbè… ma sono piccole cose che si dovrebbero scoprire facilmente… però c'è questo problema… quindi che significa… in questo momento siamo in un periodo transitorio… dove non valgono… non valgono… le regole scritte nel DM… quindi se qualcuno di voi sta già portando avanti… e ci sono già dei casi di questo tipo… sta portando avanti delle questioni… della spesa… ricordiamoci che l'arco temporale della spesa… agevolata va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021… speriamo possano prorogare tutto il resto… questo è l'arco temporale del momento… quindi chi ha speso… immaginiamo di avere già un titolo abilitativo… non conta… ecco… chiaremo un'altra cosa… non conta il titolo abilitativo… nel senso che il titolo abilitativo può tranquillamente essere antecedente al primo luglio… immaginiamo di avere al 30 aprile una cile… ecco… per intervento di manutenzione straordinaria sul mio immobile… per la riqualificazione energetica… non sapevo che sarebbe uscito il super bonus… non lo sapevo… periodo di lockdown… le imprese non potevano lavorare… sto parlando di aprile… lockdown… sì… marzo-aprile… perfetto… e quindi era congelata… se sostengo la spesa… quindi se l'impresa mi fa il cappotto e sostengo la spesa il 2 luglio… il primo luglio… il primo luglio… quella spesa ha diritto alla delazione del 110%… c'è poco da fare… quali regole rispetterò? non posso… oggi… quindi se oggi sostengo una spesa non posso rispettare… tutti quei famosissimi requisiti di cui parleremo… non so se avremo tempo… non li posso rispettare… quindi c'è un periodo transitorio… devo far riferimento ancora al DM del febbraio 2017… che è diverso… è semplificato… non sono previste tutte le asseverazioni… tutto il resto… però c'è un problema… ricordatevelo… che è prevista… da parte dell'Enea… questo c'è scritto… dall'entrata… è stato previsto… che… sapete che le entrate e l'Enea hanno l'incarico di effettuare i controlli… controlli sia a campione… controlli anche in situ… quindi attenzione… la stessa Enea su un tot numero… se non ricordo male ci sarà un 10% a campione… un ulteriore… non ricordo più le percentuali… l'ho letta qualche giorno fa mi sfuggono in questo momento… ci saranno dei controlli a campione… una percentuale dei controlli a campione prevederà dei controlli in situ da parte dell'Enea… ecco… tutti gli interventi che non seguono il DM requisiti ecobonus… chiamiamolo DM costi… DM asseverazioni… saranno controllate… saranno soggetti a controllo… quindi molta attenzione… fate attenzione se state già soffrendo di questo beneficio adesso… sappiate che non siete tenuti al rispetto di tutti quei vincoli di cui parleremo… ma ricordatevi che siete soggetti a controllo… ok… quindi abbiamo parlato rapidamente di beneficiari… quindi abbiamo chiarito anche il periodo transitorio… siamo in attesa della pubblicazione in gazzetta… dopodiché diventeranno attuativi i decreti… entreranno in vigore e quindi di fatto dovremo seguirli e sarà tutto più chiaro probabilmente… rapidamente… vedete i quattro colori… questi sono i quattro interventi… ho fatto questa infografica che fa capire veramente la struttura dell'Eco bonus… quindi la gerarchia del super bonus… i tre colori arancione, verde e giallo… rappresentano gli interventi energetici… riqualificazione energetica… quindi immaginiamo il comma 1a prevede l'isolamento termico… se faccio questo posso fare… comma 2 ecobonus al 110… ecobonus sono tanti… attenzione… è tutto l'articolo 14 del DL63… quindi stiamo parlando di sostituzione in fissi… riqualificazione energetica in generale… rifacimento anche nei pavimenti… massetti… impianto… pavimento… qualora facessi l'impianto a pavimento… posso portare in direzione i massetti… il pavimento… attenzione… potete prevedere schermature solari… potete prevedere building automation… tutta una serie di interventi trainati… cosiddetti trainati… che potete fare direttamente nell'unità abitativa singola… ok… quindi C2… C6… fotovoltaico… quindi è l'intervento trainato… C6… accumulo… C6 è vincolato al fotovoltaico… quindi posso anche fare l'accumulo… posso anche fare le colonie di ricarica… questo ne abbiamo parlato rapidamente… qui c'è la gerarchia degli interventi… attenzione… il sisma bonus… vi consente di fare solo fotovoltaico… e accumulo… non vi consente tutta la questione energetica… di cui abbiamo parlato… questa è una piccola precisazione da fare… e questo rende bene l'idea… qui ci sono i limiti… sui limiti c'è poco da dire… il decreto… il DM del 6 agosto… che non è ancora stato pubblicato… vi dice in maniera precisa… qual è il limite applicabile in termini di spesa… o in termini di detrazione… ricordatevi una cosa importante… quelli di tipo ecobonus… sono la detrazione massima ammissibile… non è il massimo alla dispesa… detrazione massima ammissibile… ricordandoci che questo è un beneficio… è una detrazione al 110… dobbiamo dividere per 1,10… per sapere il massimo della spesa… perché come già è stato detto dovremo scontrarci… tra poco vediamo come si fa… tra i costi massimi ammissibili… per l'intervento… e la spesa massima agevolata… quindi dovremo fare il minimo tra queste due grandezze… ricordiamoci che quei valori… quando parliamo di finestre 60.000… cappotto… e tutto il resto… fanno riferimento… il C2… il genere del comma 2 dell'articolo 119… quindi ecobonus… fanno riferimento ai valori massimi di detrazione… non di spesa… quindi la detrazione… la spesa in questo caso è un po' più bassa della detrazione… ricordate questa cosa… quindi qui ci sono dei limiti… qui ho scritto limite variabili… ho scritto limiti ecobonus… e ci sono i limiti… quindi avremo fino a 48.000 per l'impianto fotovoltaico… quindi 2.400 euro al kilowatt… 1.600 se si tratta di una nuova costruzione per il fotovoltaico… poi abbiamo 1.000 euro al kilowattore per l'accumulo… poi abbiamo 3.000 per le colonie di ricarica… e così via… per gli interventi di efficientamento antisismico… quindi efficientamento sismico… parliamo di 96.000 unità immobiliare… non c'è la distinzione del mini condominio e maxi condominio… nel senso che o inferiore a 8 o superiore a 8 è sempre 96 per unità immobiliare… un'altra cosa importante sul numero delle unità abitative… quando andiamo a fare i conteggi… quindi nel caso di comma 1a… isolamento termico a cappotto… isolamento termico… cappotto non c'è… isolamento termico… dell'involucro edilizio… che impegna almeno il 25% della superficie disperdente… in questo caso le entrate… l'hanno interpretata in questo modo… in modo… le prime 8 vanno con limite di 40… le successive 8… leggendo la legge dice da 9 in poi è 30… loro dicono… per i condomini con più di 9… da 9 in poi… le prime 8 vanno comunque a 40… quindi è 320… più dalla 9 in poi applico la riduzione… quindi vanno a scaglioni… non vanno per un… con una moltiplicazione diretta… quindi con metodo proporzionale… vanno a scaglioni… un po' come si fa per l'IRPEF… insomma… a scaglioni… quindi diciamo che la spesa è un po' più elevata rispetto a una prima interpretazione che veniva data applicando la legge così… a una prima lettura… ok… quindi la stessa cosa anche per gli impianti… sono previsti 20.000 fino a 8… 15.000 dalla 9 in poi… quindi fino a 8… 160.000 dalla 9 a 160… più 15 per ogni unità immobiliare… ok… ah… una cosa molto interessante… vorrei chiarirla… le persone ci chiedono molto spesso… molto molto spesso… come si calcolano le unità immobiliari… quindi ci tengo a chiarirlo… perché è una cosa abbastanza chiara… allora… le unità immobiliari in un condominio vanno intese… vanno computate… singolarmente… quindi potrebbero essere abitative o non abitative… quando unità immobiliare va considerata a sé stante… quando ha autonomia reddituale di reddito… quindi quando è autonomamente accatastata… quindi qualora un'unità immobiliare sia una pertinenza dell'abitazione… quindi immagino C2, C6 o C7… e siano accatastate… accatastate… come pertinenza… quindi come… come unità di pertinenza di un'altra immobile… di solito… non di solito… che è un'unità immobiliare… quindi se è accatastata come pertinenza… non va computata… se non è accatastata come pertinenza… va computata… quindi immaginiamo… io ho un fabbricato… questo è importante… questo schema… un fabbricato con 10 unità immobiliari… 15 garage… ok… quante sono le unità immobiliari… qui sbagliano in tanti… perché ognuno dice la propria… se le unità immobiliari sono… 6 garage… sono pertinenze delle abitazioni… avrò in totale 10 unità immobiliari… più 5 garage… avrò 15… qualsiasi altra risposta è sbagliata… sono 15 unità immobiliari… questo è lo stesso computo che si faceva ai tempi del 219 che è stata menzionata prima… così si calcolava il numero di unità immobiliari… quindi è evidente… perché una pertinenza… la definizione di pertinenza è un'unità che sia al servizio di un'altra unità… quindi non è capace… non è in grado di generare reddito autonomamente… ma deve andare al servizio di un'altra… e quindi quando io andrò a effettuare l'intervento lo farò… e questo è chiarito anche dalle entrate… sull'unità più le sue pertinenze… ok… benissimo… ovvio che se vado a fare… chiariamo un'altra cosa… ci arrivano tante domande su questa cosa… se vado a intervenire sull'unità più le pertinenze… quindi ho una cantina oppure un garage… non riscaldato… e l'appartamento riscaldato… non posso pensare di andare a mettere… andare a fare un ecobonus nella garage… non è riscaldato… attenzione… il vano deve essere riscaldato… questo è chiaro… ok… abbiamo parlato dei due salti di classe… questo dovrebbe essere abbastanza interessante… ovvio… vi faccio una precisazione tecnica… molti ci chiedono cos'è l'ape convenzionale… l'ape convenzionale è stato definito per la prima volta dal famoso decreto 6 agosto 2020… il decreto che ancora non è in gazzetta… l'ape convenzionale è un'ape che io utilizzo esclusivamente… per asseverare la classe pre e dopo… quindi il salto di classe… non è l'ape con il quale andrò a depositare la regione e tutto il resto… è un'ape per il calcolo funzionale e l'asseverazione… attenzione… convenzionale… perché convenzionale… perché lo calcolo in modo convenzionale… chiunque di voi si occupi di termotecnica… sa che… la certificazione energetica… la faccio sull'unità immobiliare… quindi ho un edificio EODC… un edificio oggetto di calcolo… di solito lo associo a una caldaia… quindi a un generatore di calore… e vado a fare il calcolo energetico… sul generatore di calore… quindi su tutte le unità servite da quel generatore di calore… cosa dice la norma? La norma vuole il salto di due classi… non per la singola unità immobiliare di Nicola Furcola all'interno di un condominio… la norma vuole… che l'intero edificio… dove per edificio intendo… tutto l'immobile… dalle fondazioni fino alla copertura… quindi dell'intero edificio… quindi dovrò portare in conto tutte le unità riscaldate… come le porto in conto? Benissimo… ecco il concetto di ape convenzionale… l'ape convenzionale si calcola… prendendo i valori di E, P, N, R… quindi il valore da cui io tiro fuori quel numeretto… classe A, B, C… E, P, N, R… e RIF… quindi non rinnovabile RIF… l'energia… l'EPI… prendo questo valore di EPI… lo confronto… per unità immobiliare… lo confronto con la scala energetica… e mi viene fuori un numero… classe A, classe B, classe C… benissimo… levo il confronto con la classe… calcolo solo l'EPI… di quell'unità immobiliare… e vado a effettuare una media ponderata… sulla superficie… che significa che… prendo le N unità immobiliari… riscaldatele poi evidentemente… dell'edificio… quindi N unità immobiliari… prendo l'EPI dell'iesima unità immobiliare… quindi faccio la sommatoria… per I che va da 1 ad N… di EPI con I per S con I… e quindi ho il prodotto… dell'EPI… della singola unità immobiliare… per la sua superficie… e le sommo tutte quante… diviso… la superficie totale… sto facendo una media… pesata… rispetto alla superficie… dell'EPI… di tutto l'involucro… di tutto l'edificio… non l'involucro… di tutto l'edificio… a questo punto mi verrà fuori un numeretto EPI… è un EPI medio… mediato sulla superficie… lo confronto con la scala energetica… ho ottenuto un'APE… tutto quello che vi sto spiegando… se avete termos… troverete l'EPI convenzionale… però almeno sapete che cos'è l'EPI convenzionale… no… l'APE convenzionale… l'EPI… è l'indice di prestazione energetica… ok… detto questo… abbiamo chiarito questa cosa… un'altra cosa molto importante… la certificazione energetica… se vi ricordate… la certificazione energetica… l'APE… può essere fatta da un certificatore… che per definizione è un soggetto estraneo… alla progettazione… alla proprietà… alla direzione lavori… a tutto… estraneo… dichiarazione di indipendenza… è chiaro che qui sarebbe stato un casino… a creare questa cosa… siano inventati… l'EPI convenzionale… che può essere… ed è giusta questa cosa… che può essere rilasciato stesso dal direttore dei lavori… dal progettista… quindi direttamente dal tecnico incaricato… giusto… giustissimo… anche perché lo deve fare prima… probabilmente non avrebbe dovuto chiamarlo… l'APE… l'avrebbe dovuto chiamare… che già esiste… ACUE… chi di voi si occupa di certificazione energetica… conosce l'attestato di qualificazione energetica… che è quello che il direttore lavori… rilascia a lavori eseguiti… ed è quello che bisognava… bisognava dargli il nome giusto… e si evitavano tanti problemi… perché uno dei maggiori problemi… che ci sono stati all'inizio… è come attesto… tutto il casino… della doppia classe… e poi ovviamente il decreto… detto… lo può fare direttamente… immaginate… immaginate… che la classificazione energetica… dovesse essere attestata da una persona… lavori eseguiti… quindi io spendo questi soldi… non so ancora se avrò il salto di due classi… quindi fra un anno che avrò terminato i lavori… saprò se ho diritto o meno al super bonus… era abbastanza grave… questa cosa ha testato grossi problemi… fortunatamente risolti dal DM… un'altra cosa molto importante… immobili vincolati… questa è un'altra novità della legge di conversione… il DL iniziale non prevedeva questa cosa… voi conoscete il patrimonio immobiliare italiano… buona parte è soggetta a vincolo… si trovano nei centri storici… ci sono dei regolamenti urbanistici severi… che vietano anche di toccare la facciata… in zona… non so… in zona paesaggistica… dove ci sono i vincoli… è un casino… lo sapete meglio di me… con la sovrintendenza… ottenere l'autorizzazione paesaggistica… forse è una delle cose più complicate… fortunatamente… alla Camera… hanno pensato di consentire… gli interventi trainati… i famosi comma 2… quelli che vengono dopo… i principali… perché i trainati sono quelli sull'involucro o sulla sostituzione di impianti… ma se non posso… per questioni di vincolo di qualsiasi tipo… quindi previsto dal decreto legislativo del 2004… del codice dell'ambiente… o qualsiasi vincolo previsto da regolamenti edilizi… in quel caso posso intervenire direttamente… immaginiamo… soggetto immobile… soggetto a vincolo paesaggistico… sostituiscono… gli infissi… benissimo… attenzione… attenzione ai requisiti… anche in questi casi dove non intervengo sull'involucro… comunque… non viene fatto lo sconto… della classificazione energetica… nel senso che… bisogna sempre perseguire… l'obiettivo finale che è quello del miglioramento energetico… quindi… ti consento di intervenire… anche sui… con gli interventi trainati… senza i trainati… ma attenzione ai requisiti… i famosi requisiti del decreto 6 agosto… quindi andiamoci a vedere… sono previsti all'articolo 2… articolo 2… sono previsti tutti gli interventi… nella tabella… che trovate alla fine… no… pardon… nell'allegato 1… ci sono tutti i requisiti… cioè ogni intervento… soggetto a una certa… oggetto di una certa detrazione… deve soddisfare dei requisiti… ok… esempio… questa è un'altra cosa interessante… se io sostituisco solo gli infissi… non è necessaria l'asseverazione… ma posso sostituire… no… devo… perché sennò non ci riuscirei… sostituisco l'asseverazione… con una dichiarazione… del fornitore… o del produttore… quindi dell'installatore o del fornitore… in questo caso… però… nasce un nuovo obbligo… quella famosa tabella I… che è stata menzionata prima… i costi parametrizzati… quindi a metro quadro… se si tratta di un infisso… a metro quadro… se si tratta… del cappotto… piuttosto che i kilowatt termici della… 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 della pompa di calore… quindi attenzione… qual o quell'allegato serve… in due condizioni è fondamentale… uno… se l'asseverazione non è obbligatoria per quella tipologia di intervento… e devo… quindi vi andate a vedere… quali sono quelli obbligatori e dove non è obbligatoria l'asseverazione… se non è obbligatoria l'asseverazione… avete l'ulteriore obbligo di sottostare a quella tabella… quelli sono i massimali… e qui… potremmo parlare anche di una serie di polemiche… su quel numeretto… i… i famosi 650… che dicevamo prima… che incentivano… magari una tipologia di infisso… e le disincentivano un'altra… questo è vero… e… inoltre… quella tabella serve… perché questa è un'altra domanda… che ci fanno spesso… quando la devo usare… la dobbiamo usare… quando andiamo… ricordatevi un altro obbligo in capo al tecnico… è l'asseverazione sulla congruità dei prezzi… per la prima volta siete chiamati a rispondere… insieme al commercialista che metterà il visto di conformità… siete chiamati voi a rispondere… sul prezzo di quell'intervento… come lo calcolerete… è già stato detto… prezzario Campania… se mi trovo in Campania… prezzario Puglia… se mi trovo in Puglia… per risolvere il problema… il problema che alcune regioni sono virtuose… in quanto all'emanazione di prezzari regionali… altre molto scadenti… non facciamo nomi… non facciamo cognomi… il ministro ha previsto la possibilità di utilizzare un prezzario unico nazionale… il prezzario DEI… DEI che ha diversi prezzari… quindi ha ristrutturazioni… impianti tecnologici… ha diversi prezzari… si chiamano prezzi informativi dell'edilizia… posso utilizzarli… qualcuno mi chiede… posso utilizzarlo indipendentemente… scelgo io… la risposta è sì… leggendo il DM 6 agosto… posso utilizzare quello… o in alternativa… quell'altro… quindi… scegliete quel prezzario… quale scelgo dei due… scegli quello che ti fa più comodo… probabilmente quello DEI è un po' più alto… rispetto a… ovvio… qualcuno dice… da vedere… dipende dalla singola voce… scelgo un prezzario… a quel punto… fatta la scelta del prezzario da utilizzare… è ovvio che è interessante… anche capire le differenze… e mi sono ripromesso anche di fare un approfondimento… un webinar… proprio su… su prezzari… capire un attimo le differenze… così… a titolo di curiosità… sicuramente interessante per molti… perché è chiaro che potrei pensare… di andare dove… dove è più conveniente… ora conveniente da capire se è più caro o meno caro… io dico conveniente… quindi dovrei capire quale prezzario usare… qualora nel prezzario non ci fosse il prezzo di riferimento… e allora è lì che devo fare… la famosa analisi prezzi… il decreto dice… devi calcolarmelo in maniera analitica… poi me lo asseveri… metti un timbro… me lo asseveri… e lo alleghi… e l'asseverazione che poi spedirà all'Enea… in quel caso posso… non devo… posso… c'è scritto… posso… utilizzare i famosi… massimali dell'allegato I… quello di cui parlavamo… i 650 euro al metro quadro dell'infisso… se metto la schermatura diventano 750… vado a memoria… non me ne ricordo… e così via… è una possibilità… non c'è l'obbligo di utilizzarlo… posso… altrimenti lo calcolo… per via analitica… quindi faccio l'analisi dei prezzi con le voci elementari… così come sappiamo già fare… rapidamente… questa è una cosa molto importante… questa… il caminetto… fortunatamente… qualche mese fa… è uscito il decreto legislativo 48-2020… che recepisce una direttiva europea… su tutta una serie di questioni abbastanza pesanti… non entro nel merito… comunque… questo decreto legislativo già in vigore… fornisce la nuova definizione di impianto termico… che cos'è un impianto termico… vado a memoria… potrei leggerlo… è un impianto destinato alla produzione di calore… bla bla bla… deve essere… anche acqua calda sanitaria… e così via… una cosa molto importante… che se lo leggete tutto… è scomparso il limite della potenza… e vi dirò di più… prima… fino a 5-6 anni fa… c'erano 15 kilowatt… poi… da 5-6 anni… erano diventati 5… per la prima volta… scompare il limite di potenza… perché prima era previsto… fino a un mese fa… fino a qualche mese fa… era previsto che la somma dei focolati… quindi la somma dei dispositivi fissi… attenzione… e rimane ancora… ci deve essere un camino… ma non può essere una stufa removibile… quindi deve essere fisso l'impianto… va benissimo un camino… la somma dei diversi cammini doveva essere di almeno 5 kilowatt… questo limite è stato superato… quindi oggi è sufficiente dimostrare… di avere un camino… per dire che l'edificio è dotato di… che l'unità immobiliare è dotata di impianto di riscaldamento… ricordatevi che l'impianto di riscaldamento è fondamentale… per… 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 per l'ecobonus… altrimenti non potrei… per super ecobonus… altrimenti non potrei procedere… ok… per l'ecobonus in generale… perché ovviamente l'ambiente deve essere riscaldato… l'unità immobiliare… ok… sismo bonus rapidamente… ah… chiediamo un'altra problematica… la zona… dove si prende la zona 4… se vi leggete… la zona… le tre zone… zona 1… zona 2… zona 3… oggi sono agevolate tutte e tre… la 4 no… sono pochi edifici in zona 4… parte della Puglia… la Sardegna… e parte dell'Italia settentrionale… quindi la zona 4 è quella… chiamiamola così… non sismica… o meglio… dove il rischio sismico è molto… più basso… rispetto alle altre… ecco… se leggete i vari testi… si parlerà della famosa… OPCM… OPCM 3274 del 2003… e questo è quello che ha definito… le zone sismiche… tutta la famosissima… esatto… ora… tenete presente che… la stessa protezione civile… ha aggiornato questi valori… e sono… alcune zone… sono passate dalla 4 alla 3… e quindi ora possono usufruire… ci sono diversi comuni in Italia… quindi facciamo riferimento a… qui c'è un link… a un link sulla protezione civile… che porta la situazione aggiornata… parecchi si chiedono… devo fare riferimento a quella… a quella… a quella… a quella classificazione… dell'OPCM risalente a 2003… a 17 anni fa… oppure… posso fare riferimento alla nuova… puoi fare riferimento alla nuova… e questo l'ha chiarito la stessa entrata… l'agenzia delle entrate… ha detto che possiamo riferirci ai nuovi valori… di… di… classificazione sismica… vabbè… il salto di classe sismica… l'abbiamo detto… ok… una cosa importantissima… visto di conformità… l'abbiamo detto… responsabilità penale… allora… cosa accade se… il tecnico… quindi voi… rilasciate un'asseverazione mendace… non veritiera… falsa… a parte che è un reato penale… quindi si va nel penale… siete anche soggetti a un'ammenda da 2.000 a 15.000 euro… benissimo… per questa questione… quindi… lo Stato… prende come figura garante… è chiaro… figura garante… per la cessione… il commercialista… perché è quel visto di conformità… che ci darà la possibilità di cedere… di parlare… di dialogare con le banche… o di dialogare con le imprese… è quel visto di conformità… senza di quello… non farò nulla… ma chi è il vero garante… nei confronti dello Stato… che quell'intervento possa essere agevolato… abbia i requisiti… abbia la possibilità di essere agevolato… è il tecnico… e il tecnico che si deve far fronte… giustamente… come ha detto il Presidente Antonio Santososso… deve assumersi le sue responsabilità… deve asseverare… proprio perché è un tecnico… quindi fate attenzione a quello che state asseverando… facciamo la massima attenzione… anche perché ci sono dei rischi grossi… e dopo vi faccio qualche esempio… a copertura del… è stato già detto prima… a copertura dell'intervento che andate a fare… dovete fornire un'assicurazione professionale… assicurazione professionale… che copra… un massimale di almeno 500.000 euro… in caso di… 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 dichiarazioni… ecco… a questo punto potremmo parlare della questione assicurazioni professionali… tenete presente che le all risk coprono tutti i rischi… ehm… anche la questione del… dei postumi… mi sembra quella… per i dieci anni… mi sembra sia prevista… vabbè… vedete bene la questione all risk… perché in quel caso non è onere vostro… andare a… come dire… andare a… a dimostrare… che l'assicurazione doveva prevedere quella cosa… se invece ne fate una… a rischi elencati… fate attenzione… costano di meno ovviamente… rispetto alle all risk… fate attenzione… quei rischi… siano elencati… il rischio che state correndo voi oggi… è forse proprio quello di una dichiarazione… non veritiera… di un… non… di una non individuazione corretta… dell'intervento o del requisito… requisiti ecobonus… quelli del DM 6 agosto… quindi fate attenzione all'assicurazione professionale… e soprattutto questa deve essere adeguata… al numero di… lavori che andate a fare… ma deve essere anche adeguata… all'importo dei lavori che andate a fare… perché ipotesi… se per qualche motivo… voi andate a… come dire… a rendere incentivabile un intervento… che magari non soddisfa tutti i requisiti… che dovrebbe soddisfare… lo portate avanti… non è che c'è un controllo diretto… io lo porto avanti… do l'ok… a sé… però faccio tutto quello che devo fare… a livello… come dire… amministrativo è tutto a posto… vado avanti… il commercialista in teoria… ha grosse responsabilità… ma solo sulla parte… amministrativo burocratica… andare a vedere se ci sono… le trasmissioni… al COG… tutta una serie di questioni… ma il commercialista non andrà a vedere se… il salto di classi è avvenuto… due classi… piuttosto che la trasmittanza… attenzione alla tabella… tabella E… che impone dei limiti di trasmittanza sull'esistente… questo purtroppo non l'ha capito nessuno… leggetevi bene il DM 6 agosto… si dice che l'esistente deve avere valori… meno performanti rispetto a quella tabella lì… altrimenti andrebbe incentivare magari infissi molto performanti… la sostituzione di infissi… quindi fate attenzione alla tabella E… ricordatevi… leggetevela bene… e capirete che quelli sono dei valori… limite… per il vecchio… non per il nuovo… tanto il nuovo ci rientrerete a voglia… su quelli… quindi attenzione a quei valori… purtroppo questa cosa non è stata ben digerita… ma è così… quindi tutta la questione tecnica viene asseverata dal tecnico… che si farà garante… il commercialista non avrà responsabilità su questa cosa… quindi in caso di accertamento e di… per qualche motivo… recupero da parte dell'amministrazione finanziaria da parte dell'entrata del… della dirrazione non dovuta… chi ne risponderà in primis è il committente sicuramente… il contribuente… che dovrà restituire l'importo già… il beneficio di cui ha usufruito… con interessi… sanzioni e tutto il resto… ma ovviamente… lui avrà dal canto suo… un'assicurazione professionale… avvisarete voi… che dovrete coprire… ovviamente… c'è tutto il discorso della responsabilità solidale… quando… quando si rabbia da dolo… o tutto il resto… ma… immaginiamo… se l'impresa… a cui abbiamo ceduto il credito… in buona fede… non sa… che lì c'era qualcosa… che non… che non… non funziona… ovviamente… l'impresa non perde il beneficio al credito… sarà il contribuente che dovrà risarcire l'amministrazione finanziaria… e poi il contribuente si rifarà sul tecnico… quindi… responsabilità fondamentale in capo al tecnico… questo meccanismo dovrebbe essere abbastanza chiaro… detto questo… vabbè… i decreti del MISEL… ve li ho già raccontati un po' tutti… vediamo se ci sono… ecco… dopo sette anni… è uscito… rapidamente… questi sono i requisiti… se vi scaricate le slide… io li ho messi in colore verde… i requisiti di cui vi parlavo… ogni intervento… tra l'altro… il DM 6 agosto… c'è un vantaggio… a prima lettura… sembra una complicazione… in realtà lo è… la prima volta che l'ho letto… mi sono spaventato… perché inserisce una nuova nomenclatura… quindi un nuovo articolo 5 comma… quindi una nuova nomenclatura… come se non bastasse il DL 63 e tutto il resto… però… di fatto… alla fine… è un vantaggio… perché potrò riferirmi direttamente… senza andare a scomodare… 100.000 riferimenti normativi… mi riferisco direttamente a questo… e ho una nomenclatura… lettera I… 1… 2… 3… quindi… lettera A… B… C… D… e così via… li trovate qui direttamente… sono anche interventi abbastanza chiari… quindi sono… esplicità di Maria abbastanza chiara… quindi… lo trovo di assoluta utilità… inizialmente… quando l'ho visto la prima volta… non mi nego che… un po' mi… mi fece spaventare… e vabbè… qui c'è la tabella… la tavola sinottica di massimali… di detrazione e di spesa… qui sono raccolti… vedete… quello che ho detto prima… attenzione… se si tratta di massimali… di detrazione… o di massimali di spesa… non… non li confondiamo… perché purtroppo… siamo stati abituati a confonderli… per l'ecobonus… di fatto… il 65%… sempre fatto riferimento al massimale di detrazione… il 50… quindi articolo 16 bis del DPR… dell'86… 917 dell'86… fa… quindi… ristrutturazione edilizia… 50%… quindi 36… poi diventato 50… fa sempre riferimento al tetto di spesa massimo… che era 48.000… poi diventato 96.000… ristrutturazione edilizia… lì è spesa massima… ecobonus 65… detrazione massima… attenzione a questa cosa… poi… spese incentivate… ah… un'altra questione… le spese del tecnico sono incentivate? La risposta è sì… attenzione… il DL… quindi la legge… il DL 34 e la legge di conversione… prevedevano espressamente il riconoscimento delle spese tecniche… per le asseverazioni… e per il visto di conformità… esatto… asseverazioni visto di conformità… quindi tecnico e commercialista… fortunatamente per noi tecnici… il decreto MISE è intervenuto sulla questione… ha chiarito… unicocamente… che sono agevolate al 110% anche tutte le altre spese connesse con la realizzazione dell'intervento… prima… questa cosa non era chiara… non era chiara… io l'avevo ipotizzata… quando ancora non c'era il MISE… fortunatamente è stato così… di fatto ha individuato tutte le spese connesse… anche con la realizzazione… quindi direzione ai lavori… non solo… le entrate… nella circolare 24… parlano di tutte le spese… anche le valutazioni preliminari… e tutto il resto… quindi è tutto agevolato al 110%… come si calcolano queste… 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 queste spese… e qui c'è un altro problema… inizialmente… sulla bozza di questo decreto… che abbiamo letto… i primi giorni… gli ultimi giorni di luglio… quella prima del 6… si parlava della possibilità di utilizzare… una doppia… si parlava… o delle… delle parcelle… delle vecchie parcelle professionali… del 93… non mi ricordo più… 93 sì… incrementate del 30… oppure… legge lavori pubblici… di M17… giugno del 2016… quindi parliamo… dei parametri bis… fortunatamente per i tecnici… le spese professionali… si calcolano… secondo il DM… parametri… parametri bis… che determina… i corrispettivi… per le spese professionali… da porre a base di gara… e dice anche che sono i massimi… previsti dal decreto… quindi… il tecnico… potrà… fare… la sua… parcelle… il suo… compenso… professionale… facendo riferimento al DM… parametri bis… quindi… tutto ciò che è connesso… relazione… aiutatemi… studio di… bravo… fattibilità… chiamiamolo… preliminare… progetto… preliminare… progetto… definitivo… progetto esecutivo… quindi andrò sui tre livelli… andrò a mettere relazione… architettonica… vedete… e provate a fare un calcolo… c'è proprio un esempio del CNI… il Consiglio Nazionale dell'Ordine… e vedrete che gli importi sono ben più alti di quelli che ci aspetteremmo… quindi di fatto… questo è un altro vantaggio per il tecnico… chiariamo una cosa però… attenzione… no no… sono… 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 anche perché quelli vanno posti a base di gara… prima parlavamo di ribassi… abbiamo parlato… di solito vengono ribassati notevolmente… quelli sono i servizi di ingegneri di architettura… soggetti al ribasso… lì le prendiamo al valore nominale… quindi… sono molto interessanti… altra cosa di interesse… che mi era venuto in mente… ma mi sono dimenticato… un'altra questione che ci… ah ecco… un'altra questione importantissima… è stata detta prima… e… ricordiamocela… i valori… i tetti di spesa di cui abbiamo parlato prima… sono comprensivi di IVA… se non che… cioè… immaginate che questa è la fattura che dovrà… quando… quando parlo della spesa… in capo al contribuente… deve essere per forza comprensiva di IVA… perché… e quello… il famoso bonifico parlante… se volete ne parliamo anche un attimo… il famoso bonifico parlante… mette l'importo comprensivo di IVA… il bonifico che io vado a fare… a fronte di una fattura… e la fattura è sempre IVA… inclusa… quindi… quelle… quegli importi lì… di cui abbiamo parlato… che troverete in quella tabella… sono… IVA inclusa… e spese… incluse… e professionali incluse… perché questa cosa ha creato un po' di… di disguidi… io stesso… all'inizio pensavo… che… per qualche motivo… potessero… non essere incluse… ma… di fatto… nel decreto di separazioni… e… dove c'è scritto questo? sotto la tabella… allora… attenzione… attenzione… nella vecchia tabella… c'è scritto al netto dell'IVA… è una tabella… della bozza… del decreto… di… ma ora di che stiamo parlando… mi scusi… dell'allegato I… non confondiamo le cose… quella è un'altra cosa… al netto dell'IVA sono le spese… allegato I… vi ho spiegato prima… l'allegato I… a che serve… serve solo in due casi… e quella nella prima formulazione era l'urdo dell'IVA… adesso è il netto dell'IVA… io adesso vi sto parlando… delle spese incentivabili… cioè la tabella… allegato A… prendete l'allegato A… lei sta parlando dell'allegato I… l'allegato I… fortunatamente… fortunatamente… i famosi 650 euro al metro quadro degli infissi… sono IVA escluse… vi dico anche il perché… perché… sappiamo bene… che quei… parecchi di quelli… tipo gli infissi… sono dei beni finiti… che spesso… in un contratto di… in un intervento di manutenzione straordinaria… si applicano anche… immaginiamo… la sostituzione degli infissi… l'IVA… non è neanche standard… perché… è agevolata… fino al raggiungimento… esatto… può andare al 10… o al 22… o qua… dipende… quindi è variabile… e comunque… lì ci sono tutta una serie di problemi… e quei valori… se fossero stati anche I… inclusi… veramente sarebbero stati limitativi al massimo… quella tabella… c'è scritta… al netto… di spese di posa in opera… di installazione… e di IVA… e confermo che è così… io sto parlando adesso… dei massimali di spesa dell'intervento… che nulla hanno a che vedere con quella tabella… lo ribadisco… quella tabella serve solo… se non c'è la necessità delle asseverazioni… quella tabella… o serve solo… quando faccio l'analisi prezzi… di quello che sto parlando adesso… le spese massime… sono… considerano… l'IVA inclusa… quindi spesa massima ammissibile… cioè i famosi… 60.000… 50.000… 50.000… 50.000 del cappotto… inizialmente erano 60.000… perciò… i 50.000 del cappotto sono… IVA inclusa… massimo… e tecnico incluso… qualora andassi a fare una… quando vado… dopo che ho fatto l'asseverazione dei costi… devo andare a scrivere… spesa incentivabile… per il tecnico… questo lo vedrete nelle asseverazioni… uguale il minimo tra… spesa massima ammissibile… e… spesa… asseverata dal tecnico… comunità della spesa… quindi mi uscirà… ad esempio… il minimo tra… 50.000… e il computo che ho fatto col prezzario dei… mi uscirà… 53.000… io dovrò prendere… 50.000… e il 110% lo farò su 50.000… dove il 50.000… tiene conto dell'IVA… e tiene conto… anche della mia prestazione professionale… calcolata… con il DM parametri… è chiaro… questa cosa non era molto chiara all'inizio… ora è chiara… ok… qualche altra cosa… che non era chiara… vi sto dicendo… come le facche più interessanti… poi se volete fare qualche domanda… la facciamo… come si calcola… ecco… l'abbiamo già detto… i parametri… il decreto parametri bis… per il calcolo dei compensi professionali… niente… la cessione del credito si fa… vabbè… attraverso il giure… prima il visto di conformità… poi possiamo operare direttamente sul sito dell'agenzia delle entrate… oppure attraverso intermediario… se non ricordo male come su Fisco Online si può fare… quindi direttamente il contribuente può cedere a terzi la detrazione… nel caso delle banche… vi dico Unicredit… leggendo il foglietto informativo di Unicredit… dice che… erogherà… la cessione… darà il credito battuito nel caso di lavori privati… si parla del 102%… detto questo… quindi abbiamo parlato anche di come si cede il credito… ovviamente si fa… dal momento che ci vuole un commercialista… perché dovrà… quando si fa la cessione del credito è sempre obbligato lui il visto… a quel punto probabilmente sarà lo stesso commercialista che ci… che eserciterà l'opzione per noi… quindi opzione di cessione del credito… il credito sarà accedibile a partire dal 15 ottobre… l'avete detto… mentre la spesa si può già sostenere… pure l'abbiamo detto… un'altra cosa interessante… le banche o le imprese cessionarie… non potranno utilizzare il credito immediatamente… dovranno rispettare il beneficio che avrebbe avuto il contribuente… se si avesse utilizzato direttamente… in linea diretta… il credito… il credito imposto… perché per il contribuente non è un credito imposto… il credito IRPEF… il che significa che se io sostengo la spesa oggi… dall'anno prossimo potrò usufruire di quel… di quel… di quel credito IRPEF… se lo cederò oggi… dal 15 ottobre… all'impresa… l'impresa non potrà comunque utilizzarlo come credito di imposta prima di gennaio… quindi dovrà andare all'anno nuovo… o marzo… non mi ricordo… vabbè… comunque dovrà andare all'anno anno… non lo potrà utilizzare quest'anno stesso… ma queste poi sono questioni che magari non ci riguardano più di tanto… riguardano più il cessionario… dopodiché… vediamo un po' esclusioni… vabbè… ne abbiamo parlato prima con qualcuno quali sono le esclusioni… abbiamo trovato tutto qui dentro… ok proprietari… ok proprietari di sole pertinenze… abbiamo detto… se in un condominio vengono realizzati dei lavori sul cappotto… ci sono dei proprietari di… forse è scritto male… non di pertinenze… di immobili non abitativi… l'abbiamo detto prima… possono usufruire dell'agevolazione… modelli per l'esercizio dell'opzione… va una cosa interessantissima e chiudo… condominio… chiunque di noi pensa a un intervento condominiale immagina che sia davvero complesso mettere insieme tante teste… se qualcuno ha partecipato a qualche assemblea condominiale… io ci ho partecipato… è complessa… anche dire la propria… non è facile… io nelle mie assemblee condominiali non riesco a parlare di questioni tecniche… non mi fanno parlare… ve lo garantisco… infatti mi rifiuterò di parlarci… è complesso… fortunatamente ci sono due condizioni… numero uno… la legge 10 del 91… la conoscete tutti… di espressioni tecniche… prevedeva già che nelle questioni condominiali quando esisteva la famosa diagnosi energetica… quindi quando c'era un documento scritto… un'analisi sull'esistente… per le maggioranze in assemblea non era necessario né maggioranza qualificata né il 50… ma si riduceva il valore dei millesimi al 30… a un terzo… quindi… già prima era così… in pratica… se c'è una certificazione energetica… una diagnosi energetica… un documento tecnico… che attesta lo stato di fatto dell'immobile prima… al momento… quindi se io vado oggi… all'assemblea condominiale del mio condominio… e porto un documento tecnico… un'analisi… una diagnosi energetica… dove metto in evidenza tutti i possibili interventi… quali sono… tutta una serie di questioni… faccio anche una prospezione su un ipotetico salto energetico… tutta una serie di considerazioni… lo porto in assemblea… è sufficiente… una maggioranza di un terzo… dei millesimi… e la maggioranza dei presenti… la diagnosi energetica… la diagnosi energetica… la diagnosi energetica… non è neanche necessario il tuo porto in assemblea… potresti dire che è oggetto di diagnosi energetica… e dalla diagnosi energetica si vincerà che… quell'intervento… darà magari un secondo momento… perché mi immagino che sia… anche fare una sorta di APE… tu vorresti fare l'APE BRE… dell'intero edificio… fare un'APE convenzionale… e dici che si trova in classe G… magari dai anche le indicazioni… quelle famose indicazioni che tu inserisci nell'APE… incrementa… la bomba 344, 245, 346 che vai a inserire nel… nell'APE… o magari l'installazione di pannelli fotovoltaici o solare tecnico… quelle famose raccomandazioni… si chiamano… questa è la fine dell'APE… potresti inserirle lì… portare in assemblea… è chiaro che potresti anche impegnarti a farlo dopo… perché fare questa cosa… ti comporta un sopralluogo… facciamo le cose fatte bene… l'APE non lo facciamo sulle piante catastali… ok… facciamelo… prendendo le misure… facciamo le cose fatte bene… prendiamoci le responsabilità… ma facciamole bene… quindi andiamo in luogo… prendiamo le misure… assicuriamoci della qualità degli infissi… non posso immaginare… o l'ho visto… fare APE sui catastali… non ne abbiamo fatto nulla… c'è un obbligo di sopralluogo… lo dichiaro nell'APE stessa… facciamo le cose fatte bene… prego… ma l'APE convenzionale… non supera oltre alla direzione di gubernezzante… il rapporto di pannelli… non c'è… di questo non se ne parla… non se ne parla… ne parla da nessuna parte… quindi non c'è… tanto nel momento in cui… prendi la responsabilità di quella separazione… potrei anche essere il mio cugino… non è prevista da nessuna parte… nel momento in cui posso affidare l'incarico… dell'incarico tecnico… quindi di progettazione al mio cugino… o la direzione dei lavori… al mio cugino… è chiaro… non la farei io stesso… quello è quarto grado… ma il certificatore… energetico… viene meno… anche perché… l'APE convenzionale… quindi l'APE per l'attestazione del salto… viene rilasciato sotto forma di… dichiarazione sostitutiva di atto notorio… quindi anche lì ci sono delle questioni penali… lì dentro… quindi non la dichiari come una semplice… come un semplice documento… ma viene rilasciato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto formatorio… DPR 445 del mondo… quindi bisogna fare attenzione anche a questo… quindi… non è più prevista… non c'è specificato da nessuna parte… mentre per… il certificazione… non ne sarei così sicuro… perché… potendo io fare la direzione lavori… per mio cugino… potendola fare… il direttore dei lavori… può… può fare l'attestato di… quindi di conseguenza… credo che non sia… non sia escluso… non c'è… non è… non è prevista… a differenza… dell'APE tradizionale… dove è prevista… In caso degli ingegneri… l'amministratore di condominio… può fare tutto… l'amministratore di condominio… immaginerei… non vedo… non c'è incompatibilità… non credo che sia espressa da nessuna parte l'incompatibilità… anzi… l'amministratore ne parlava abbastanza… prendere le sue compenze con il lavoro extra… sempre visto dal contratto che ha… 2%… più… perché dovrà fare tutta una serie di questioni… dovrà… in più… dovrà fornire… giustamente… è chiaro… non mi risulta… non ho mai sentito… non ho mai sentito… non ho mai sentito… … ci sono… ci sono… eh sì… ti tiro… nel caso di… cappotto… se I lavori a parte dei ponti termici vanno al 110? Assolutamente. Quello è un intervento di riqualificazione energetica dell'involvolo, la riduzione dei ponti termici. Di fatto il ponti termico lo riduce con un cappotto esterno? Alcuni olegi dicono che per voi non lo fai, non togli gli stili. Quello è un discorso non corretto dal punto di vista tecnico. Lasciamo stare la delazione perché io li potrei sforzare tanto nel migliorare l'imbologo e mi dimentico dei punti sensibili che sono le discontinuità geometriche, le travi, le soglie che dà dentro. Quello è un intervento assolutamente di riqualificazione energetica. Quindi rientra ma è anche doveroso farle. E poi voglio fare una domanda per terzi. Io ho un cassetto fiscale da 1.000 euro all'anno, faccio 100.000 euro, in caso che poi le cose vanno altre. Cioè i soldi dove li vanno in quel cassetto non vi sono. Allora attenzione. Lei ha due opzioni. Uno, la legge è chiara su questo. Uno, usufrisce della delazione e due, la cedere. Se lei non ha la possibilità di usufruire, lei parla di IRPEF da versare all'anno, ok? Se lei non ha un IRPEF, non ce l'ha, la deve per forza di cosa cedere? E quindi in quel caso, se la banca si fa il mutuo, si tratta. Ora chiariamo anche questa questione del mutuo. Nel cassetto fiscale? No, 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 nel momento in cui, attenzione, nel momento in cui la banca si appropria della detrazione, la banca dà contratto. Mi deve dare una contropartizione. La banca sta comprando il mio credito fiscale. Lo sta comprando. Cioè io con la banca avrò, se volete vi racconto il foglietto informativo di Unicredit, che lo conosco abbastanza bene, l'ho letto con attenzione. Questo è quello che dice Dio. Il foglietto informativo di Unicredit mi è abbastanza chiaro, l'ho letto. Poi non so se faranno quelle condizioni, tra l'altro c'è scritto sopra, condizioni valide fino a settembre, non so cosa significa, se cambieranno. Però è molto interessante perché io mi metto d'accordo con la banca, dicendo voglio cederti questo credito. Chiaramente mi chiederà una sfidza di documenti. Tra le altre cose chiedono ragibilità. L'agibilità non ha nulla a che vedere con la conformità urbanistica. La conformità urbanistica, ti è stato detto, attesta lo stato di legittimità dell'immobile, che ha poco a che vedere, con l'agibilità che mi attesta un'altra cosa. L'agibilità mi attesta che ci posso vivere, che le condizioni di salubilità, mi attesta che gli impianti sono a norma e mi attesta una serie di questioni. Quella è l'agibilità. Prima si chiamava abitabilità, lo sapete meglio di me. La conformità urbanistica è tutt'altro. Quindi la banca già diede all'agibilità, questa cosa è un po' strano, anche perché sono estressamente incentivati i ruderi, l'abbiamo detto. Ditemi un rudere magari unità collabente. Se mi dite come è agibile, magari 100 mi cade in testa, per definizione, unità collabente. Quindi di fatto si stanno inventando cose un po' strane. Detto questo, come funziona il meccanismo? Nel momento in cui io instauro un rapporto con la banca, il tutto si traduce nell'apertura istantanea di un conto corrente con l'oro. Gratuito, da come dicono, poi non so se è vero o meno, non lo so. Vi dico quello che c'è scritto. Gratuito. Apro il conto corrente con l'oro. A questo punto cosa accade? Dovrei arrivare, l'abbiamo detto prima, per poter cedere alla banca, dovrei arrivare ad almeno il 30% dell'importo totale a SAL, al raggiungimento del primo SAL. Ci sono tutta una serie di adempimenti in capo al tecnico, che dovrà fare tutte le asseverazioni. Quindi tutto quello che deve fare per l'intera opera, la deve far già, la deve anticipare già al T30, significa al tempo in cui raggiungerò il SAL del 30. Quindi a T30 dovrò fare tutta una serie di operazioni. Andrò dal commercialista e mi entrare al visto di conformità. Farò la gestione a favore della banca. Dopo 5 giorni la banca mi riconosce il 102% della detrazione che gli ho dato. Quindi gli darò il 100, spendo 30, immaginiamo su 100.000 dotati, arrivo a SAL 30, significa a 30.000 euro, 30.000 euro, asseverazioni e tutto il resto, quindi visto di conformità, cessione del credito, la banca mi darà il 102% di 30.000, ok? Non so quanto sarà, sarà 30.600, ok, me li dà. Ora il problema è che se io questi 30.000, perché per arrivare al SAL 30 mi servono 30.000, non ce li ho, come faccio? La banca dice che gli dà, la chiama anticipazione lavori fatture, chiamiamolo prestito ponte per arrivare lì, mi fa un prestito ponte a T0 per darmi la possibilità di anticipare. Non è che mi dà 30.600, mi darà, per l'esattezza, tutte le fatture, le anticipazioni che magari vorrà l'impresa, oppure eventuali costi che dovrò sostenere per sempre fatture, del professionista che mi ha fatto già tutto il progetto, mi ha rappresentato fatture, porterò le fatture alla banca, porterò le fatture e mi darà i soldi a copertura delle fatture, fatture e lavori, quindi anticipazione fatture e lavori, mi dirà un'anticipazione, pagherò, quando arriverò al 30%, quando riceverai il mio credito fiscale, la prima cosa coprirà questi costi, dopodiché il resto lo darà a me, io porterò avanti tutta la questione pagamenti e porterò avanti poi al secondo SAL fino al raggiungimento della fine. Quindi di fatto la banca mi concede, chiamiamolo mutuo prestito ponte, lo chiamano loro anticipazione fatture e lavori per portare avanti questa cosa. È chiaro che da parte della banca per l'anticipazione fatture e lavori c'è una valutazione, per tornare alla sua questione, c'è una valutazione sul merito creditizio, cioè se io sono un buon pagatore, se sono iscritto al TRIF, se sono iscritto nei registri dei cattivi pagatori, faranno tutta una serie di valuzioni molto stringenti per dargli questa anticipazione. Nel momento in cui c'è la separazione del tecnico e del commercialista che si fa da garante nei confronti dello Stato, che quel credito è valido, in quel momento la banca non dovrà fare nessuna valutazione su di me, perché non sono io il garante di quel credito. È lo Stato, quindi di fatto, questo è il discorso che lei diceva prima, lo Stato paga, non paga, si fa da garante di questo mancato pagamento delle tasse. Cioè lo Stato deve ricevere delle tasse da lei, non ricevendone da lei non le riceverà da qualcun altro. Quindi si crea una moneta virtuale, proprio perché entrano in gioco le banche che riescono a monetizzare o entrano in gioco società molto poche che hanno certezza della loro fiscalità. Prima abbiamo sentito Enel, sono due colossi entrambi. Quindi loro sì, che hanno la possibilità di... perché attenzione, loro stanno comprando un credito non l'anno prossimo, lo stanno comprando a cinque anni. Cioè stanno comprando il 22% l'anno prossimo, il 22% quell'altro, il 22% quell'altro, fino ad arrivare complessivamente al 110%. Chiunque comprasse un credito oggi, per la matematica finanziaria ce lo insegna, non posso pensare che sta avendo un beneficio reale del 10%, non è così. Sta avendo un beneficio del 2% all'anno a interesse semplice, quindi ancora di meno. Quindi attenzione a questa cosa. Non posso dire che io ho un vantaggio immediato, la banca che compra quel credito non ha un vantaggio immediato del 10%, non è così, non potrà mai esserlo così. Ok? Sia ben chiaro questo. Cioè sta comprando per i cinque anni successivi, il 22% te li sta spuntando in qualche modo. Qualcuno ti darà il 100%, qualcuno ti darà il 90%, qualcuno ne darà l'80%. Comunque te li anticipa, te li anticipa. Te li anticipa, ti sta dando una liquidità immediata. Non si parla di interesse, ma non si parla di interesse. E l'ho appena detto, non l'ho detto, ah scusami, nel prestito ponte, attenzione, da 0 al 30%, si parla di interessi. Questa domanda la farei proprio a Unicredit. Si parla di 1,75%, 2,75%, bravo, 2,75% anno. Stiamo parlando di 30 giorni, quindi immagino che sui 30.000, ma durerò 17-18 euro, sto dando un numero, 25 euro di interessi. Sicuramente è minore del 2% che mi dovrà riconoscere. Quindi sicuramente il 102% che mi darà cobrerà anche gli interessi. È poco massimo, perché il 2% dovrebbe essere, immaginiamolo, anno, 2% anno, la 2,75%, solo se arrivo oltre 7-8 mesi, probabilmente supererò. Però questo lo chiederei, provate a chiederlo Unicredit. Sarei curioso anche io di vedere se è realmente così. Stando al foglietto informativo è così, quindi 2,75% mi sembra, soprattutto perché anno, lì c'è scritto che si valuta sui 3 mesi. Immagino che, essendo così stretti i lavori, un sal a 30, stiamo parlando di 2-3 mesi, non posso pensare di fare un sal a 30 in un anno, non finirei i lavori, cioè c'è il rischio. Non pensiamo che l'accevolazione sarà prorogata. Un'attività massima di 18 mesi. Come? Un'attività massima di 18 mesi. Ha una durata massima di 18 mesi, perché loro danno la durata dell'arco temporale totale è 18 mesi, quindi non può durare più di 18 mesi, esattamente. Anche io mi chiesi perché. Proprio perché se inizio il 1 luglio non potrei andare, quindi attenzione anche a questa cosa. Però è chiaro che io i conti con i 18 mesi li faccio già parlando con l'impresa e definendo un piano operativo di lavoro con l'impresa, perché io devo ultimare. Ora già non sono più 18, già sono probabilmente 16, siamo a settembre, sono 16. Quindi facciamo attenzione. A battimento di costruzione è già incostibile? A battimento di costruzione è già conseguita per l'intervento? A battimento di costruzione, questa è un'altra cosa interessante, se ne vogliamo parlare due minuti. A battimento di costruzione, la legge di semplificazioni, questo ne abbiamo già parlato altre volte, nell'attuale formulazione, non è legge, il decreto di semplificazioni, deve essere convertito in legge e stanno già iniziando una serie di problematiche, però introduce questioni molto interessanti, tra cui la DPR 280, articolo 3, comma 1, lettera D, parliamo di ristrutturazione edilizia. Ristrutturazione edilizia, che mi dà diritto a tutto questo, negli interventi di ristrutturazione edilizia viene ricompreso l'intervento di demolizione e ricostruzione, che era già dal 2013 in poi, ma la vera novità è che è consentito anche la variazione di sagoma, quindi anche di prospetti, l'area di sedime e addirittura anche di volume, qualora rientranti, qualora sossistano dei piani di rigenerazione urbana, legge piano casa, per alcune zone, insomma dipende, ora stanno iniziando però già delle modifiche, sentivo stamattina, ci sono già una serie di, al Senato, ci sono una serie di emendamenti, stanno modificando, stanno tutelando le zone storiche, come è giusto che sia, non immaginare di fare una demolizione e ricostruzione in un centro storico dove confino con altri palazzi e andare a variare la forma, questo è lo più evidente, ma ci sono una serie di modifiche che stanno portando, però questa cosa è interessante, è chiaro che dal punto di vista amministrativo è difficile, è difficile, sono d'accordo, arrivederci, ci sono altre domande? Vi dico giusto una cosa veloce, se avete qualche domanda noi abbiamo un'apposita pagina di FAQ, raggiungibile dal sito, dovrebbe esserci forse sul flyer, non lo so, bim.h.it slash FAQ trattino super bonus, comunque credo ci sia sul flyer, quindi da lì potrete scaricare queste slide di cui abbiamo parlato.